Buonasera, buonasera, ben ritrovati a questa puntata insieme Linea d'Ombra e ovviamente Partiamo con la notizia del giorno, cioè la sospensione anche in Italia, cautelativa, del vaccino AstraZeneca C'è qui con noi in studio Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità, buonasera Emanuele Buonasera, buonasera a tutti E collegato con noi c'è il professor Pierangelo Clerici, microbiologo e fa parte del CTS della Lombardia Buonasera prof Buonasera a tutti Allora, un minuto e dieci di servizio che ci spiega cosa è successo per la sospensione del vaccino AstraZeneca Vediamolo Sicuramente un brutto colpo alla campagna vaccinale nel nostro paese Che aveva puntato molto sul vaccino AstraZeneca Dopo la scelta della Germania, della Francia e di altri paesi Adesso è arrivato lo stop anche in Italia L'AIFA ha deciso di estendere in via precauzionale e temporanea in attesa dei pronunciamenti dell'EMA Il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca a Covid-19 su tutto il territorio nazionale Tale decisione ha spiegato un comunicato dell'agenzia È stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei Come Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda Altri paesi ancora hanno bloccato solo alcuni lotti Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso L'AIFA, in coordinamento con l'EMA e gli altri paesi europei Valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione L'agenzia del farmaco renderà nota tempestivamente Le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale Per coloro che hanno già ricevuto la prima dose Ricordiamo che sono 5 le persone morte nel nostro paese Dopo essere state vaccinate con il preparato AstraZeneca Per il momento, dicono gli esperti, non è stata dimostrata alcuna correlazione Tra l'assunzione del vaccino e la morte Che potrebbe essere avvenuta per fattori che nulla hanno a che vedere con il vaccino Allora in filosofia mi ricordo che spiegavano che il posto non è il propter Cioè che se qualcosa capita dopo Non è detto che sia causato da quello che è avvenuto prima Questo è il punto Poi vi faccio sentire anche l'intervista col direttore generale di AIFA Magrini Che in serata ha detto state tranquilli che il vaccino è sicuro Clerici parto da te Ma a me sembra quasi una decisione più politica che scientifica Cioè l'AIFA dice state tranquilli Però il vaccino viene sospeso perché lo hanno sospeso anche delle altri paesi in Europa Tu cosa ne pensi? Sicuramente giocano molti fattori E diciamo che la sospensione precauzionale è anche per non alimentare un panico All'inizio di una campagna vaccinale importante Per cui è meglio chiarirsi subito e attendere 48 ore Che non alimentare con false notizie o con delle non corrette notizie il panico Per cui ben venga che si sospenda in tutta Europa Quindi non è una scelta italiana Ma è una scelta di tutti E poi riprenderemo con tranquillità Perché il vaccino è efficace ed è sicuro E il numero di aventi e versi che si sono generati Non è assolutamente superiore a quello che normalmente si genera con qualsiasi tipo di farmaco Chiaramente però ecco Emanuele e Monti abbiamo visto che sono 5 casi tra la Sicilia e la Campania Poi c'è il caso di Biella In alcuni casi sono già state fatte le autopsie Adesso bisognerà capire Risultato che oggi in via Procaccini alla fabbrica del vapore è stato sospeso Mentre c'era la campagna vaccinale in corso E' chiaro che chi si trovava lì magari un po' di paura l'ha avuta Beh questo sicuramente Adriana Questo sicuramente dopo di che Guarda nel fine settimana ho girato diversi ospedali Sono stato a Luino, a Cittiglio, ad Angera E parlando con gli infermieri che proprio in questi giorni stanno facendo le vaccinazioni Tanti mi parlavano di mancati appuntamenti Di persone che non si volevano far vaccinare con la strazene Che all'ultimo non si presentavano Tanti si facevano provare Dopo i casi della Sicilia e della Campania Ancora la settimana scorsa Quindi questo panico, questo terrore Eccetera Giustamente come dice adesso il professore Questo stop Come è stato anche in Germania Voglio dire in altri paesi europei Per fare chiarezza Cioè facciamo chiarezza da un punto di vista di profilo scientifico Lema domani già ci dirà Ma è giovedì la riunione Tu dici che già qualcosa lo dice domani Ma domani ci dovrebbe già inviare una nota Quindi già avremo delle informazioni Facciamo chiarezza Dopodiché si va avanti Ma l'importante è la salute e la sicurezza dei cittadini C'è da dire che a oggi La percentuale sul totale dei vaccini Se lo guardiamo su scala mondiale I casi come questi Riscontrati sui quali poi bisogna anche verificare Una correlazione Sono una numerica estrema Abbiamo 15 eventi di trombosi venosa profonda E 22 di embolia polmonare Su 17 milioni di persone vaccinate Però Però Clerici scusami È vero Tutti questi numeri sono giusti Però quando leggiamo le notizie Di queste persone giovani Che sono morte Ripeto Tre in Sicilia Due in Campania E uno a Biella È chiaro che almeno Quell'otto lì È giusto sospenderlo Magari c'è qualcosa che è andato a male In quell'otto lì Questo Non dico tutto il vaccino Allora Puntualizziamo Noi non sappiamo le condizioni Non le conosciamo Le condizioni di salute Di questi soggetti Che purtroppo Sono andati incontro Ad esito fatale Probabilmente Potevano avere anche Qualche problema genetico Perché non dimentichiamoci Che sono descritti A venti avversi Se c'è una situazione genetica Che porta la trombofilia O quant'altro E nessuno lo sa Finché se non si trova In condizioni Di dover fare degli esami O perché si sottopone A indagini cliniche particolari Quindi questo è un dato Il fatto di sequestrare Il primo lotto Che però Attenzione Il lotto siciliano Non è il lotto di Biella Per cui sono già due lotti diversi Il che ci fa propendere Proprio per eventi soggettivi E non per una situazione complessiva Della produzione del vaccino È giusto che si siano sospesi Comunque EMA Oggi sta raccogliendo tutti i dati Domani e mercoledì Di mattina Dovrebbe concludere L'iter Il comitato di controllo Sugli avventi avversi Dei farmaci Il cosetto Prac E il carico A lema Ed ecco perché giovedì Ci sarà la comunicazione definitiva Perché 36-48 ore Per elaborare tutti i dati Che giungono Anche perché noi abbiamo Una cosa importantissima L'Inghilterra Con 11-12 milioni Di casi Di vaccinazioni Non ha segnalato Questi avventi avversi Che abbiamo avuto noi Fino all'Egipus Fino alla morte Per cui bisogna cercare Di capire veramente Cosa c'è Dietro a queste situazioni Però Scusami Per avere i risultati Delle autopsie Forse non servono Più di due giorni Non lo so Io Come fa l'Ema Già in due giorni Ad arrivare a un verdetto Ad arrivare a una decisione Ponderata Perché l'Ema Sta raccogliendo Tutte le cartelle cliniche Tutti i dati Che gli vengono forniti Dai singoli stati Dove si sono verificati Gli avventi avversi Che non sono solo le morti Attenzione Ma sono tutti Gli avventi avversi Perché Abbiamo avuto morti Per coagulopatie Ma anche Embolie polmonari Per cui vengono raccolti Tutti i dati Elaborati Da questo comitato Di esperti Che giudicherà Anche su base Non solo statistica Ma anche su base clinica L'autopsia Io non faccio L'anatomo patologo Però per riscontrare Situazioni di trombosi Non sono necessari Due giorni Assolutamente Per cui Già dei dati Li potremmo avere Nella giornata di domani E comunque Se noi E questa È una situazione Piacevole da un certo punto di vista E spiacevole dall'altra Se noi Non avessimo spinto La ricerca A produrre In ingegneria genetica Due vaccini Importanti Come Pfizer E Moderna Saremmo stati Costretti A utilizzare Tutti i vaccini Come quelli Di AstraZeneca Cioè costituiti Da più adenovirus Animali E quindi Avremmo rapportato Tutto a questo Il fatto di avere avuto Due vaccini In ingegneria genetica Che teoricamente Ma anche nella pratica Non danno Avventi avversi Di questo tipo Ci pone in una condizione Giustamente Di attenzione Di allarme Però Io Insomma Siccome l'Italia Ha puntato molto Su AstraZeneca Monti Cioè adesso Io Sto pensando La potenza di fuoco Che ha messo in campo Draghi Con il generale Figliuolo Non è che adesso Subirà uno stop Per questo Perché stiamo puntando Tutto su AstraZeneca Molto Poi dopo parleremo Anche con il direttore medico Di Johnson & Johnson Perché Adesso arriverà anche quello Allora Qua tu sfondi una porta aperta Perché io Alzai la mano A dicembre Chiedendo Chiarezza E trasparenza Su AstraZeneca A dicembre Sfondi una porta aperta Perché Questo discorso qui Che è un discorso europeo Non è solo l'Italia L'Italia È entrata dentro Un ragionamento europeo Su AstraZeneca Che perenne ragioni Si è puntato Su questo vaccino E ha detto Benissimo Il professore Adesso Meno male Che La ricerca La scienza È una vittoria Della scienza Questa questione Dei vaccini Perché ha aperto Veramente diverse Però Noi siccome abbiamo puntato Tanto su AstraZeneca Da una parte AstraZeneca taglia Un po' Le forniture E dall'altra C'è questo problema Allora Guardiamo Sui quantitativi È chiaro che noi Siamo in straritardo Perché Siamo in straritardo Si poteva fare 100 volte meglio Tra le altre Si poteva produrre Il vaccino Off-label O come conto terzissi Qua in Lombardia Vabbè Comunque arriviamo Col secco Però già lì Eravamo abbastanza A posto Da tutto Un certo punto di vista Dopodiché Adesso arriva Johnson Il Johnson & Johnson Quello della Gianna Adesso ne parliamo tra poco Arriverà Delle dose aggiuntive Di Pfizer Eccetera È chiaro che senza AstraZeneca Abbiamo un po' Abbiamo dei problemi Le gambe tagliate Poi Per quello che è la priorità Vaccinale oggi Gli over 80 Noi in Lombardia Ne abbiamo 650 mila Perché c'è chi oggi Sta anche polemizzando Poi parliamo degli anziani Però su quelli va Pfizer Non va a AstraZeneca No 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 Su quelli va Pfizer Lo ripetiamo Perché sennò Si spaventano anche gli anziani Però ecco Clerici Agli insegnanti Che hanno fatto La prima dose Perché verrà data Una nota anche a loro Perché hanno tutti Gli appuntamenti A tre mesi Quindi hanno tutti Gli appuntamenti Più in là Secondo te Cosa succede A tutti questi insegnanti Personale scolastico Che hanno fatto una dose Abbiamo due possibilità Sulla base Di ciò che ci dirà Ema La prima Quella di continuare Tranquillamente A 12 settimane Con la somministrazione Della seconda dose Oppure di rivedere Il target Della somministrazione Con una sola dose Come hanno fatto Gli inglesi Gli inglesi Hanno somministrato Una sola dose Di AstraZeneca E hanno una copertura Vaccinale importante Anche con un'immunità Di popolazione Importante Per cui la scelta C'è sicuramente Ma dobbiamo Tranquillizzare I professori Che hanno Ricevuto AstraZeneca Che tranne Eventi collaterali lievi Come la febricola O i dolori articolari Null'altro Si paleserà A distanza Di giorni Dalla vaccinazione E la decisione Se sospenderla Seconda dose O se farla La prenderà L'EMA Per tutta l'Europa O l'AIFA Qui in Italia L'interregolatorio E' l'EMA La quale Deve valutare Ciò che AstraZeneca Ha prodotto Come report Prima di registrare Il vaccino Non dimentichiamoci Che la registrazione È avvenuta Su circa 50.000 casi Quindi Una corte ridotta Rispetto al numero Di vaccini Che già sono stati Somministrati Una volta che l'EMA Deciderà E' chiaro Che le agenzie Regolatorie Delle singole nazioni Tenderanno Ad adeguarsi A ciò che l'EMA Decide Ok E quindi anche l'AIFA Si adeguerà Va bene Grazie prof Adesso dopo di te Invece parliamo Col direttore medico Di Johnson & Johnson Perché ad aprile Dovrebbe arrivare Anche quello Quindi insomma Speriamo Quello dovrebbe essere Anche quello Una buona spinta Alla campagna vaccinale Massiva Grazie prof Clerici A presto Buon lavoro Buonasera Presidente Buonasera Allora Mandiamo la fascia Poi torniamo a parlare AstraZeneca E parliamo anche Delle vaccinazioni Agli over 80 Che sta andando avanti Magari non velocemente Come si sperava Però sta andando avanti Parliamo anche di quella E poi domani Cominciano anche i cronici I malati fragili Poi ci dici Ma bisogna iscriversi O vengono chiamati In automatico Chiamati Dopo spieghiamo bene Ecco perché quello È molto importante Spiegare come funziona Come funziona La vaccinazione dei fragili A tra poco Parliamo di Johnson & Johnson Centralina Seletro Riprogrammabile Filtri aria Qua Kit aspirazione diretta KM Sound booster Molle Ammortizzatori E un bel ammortizzatore Beast in B8 Scarico Remus Sport exhaust Pedal booster Ciao a tutti Sono 32 anni Che facciamo il suo lavoro Siamo i re del tunnel Cosa devo dirti Vedo non solo piscina qua Ciao ragazze Vi state divertendo? Sì moltissimo Relax Relax in piscina Adesso nell'idromassaggio Fantastico Atteniato dal verde Non potremmo chiedere di meglio Sia per ragazzi della nostra età Sia per famiglie con bambini Noi siamo qua già un mesetto E devo dirti che insomma è molto bello Poi tra l'altro è un bel ambiente Ci sono belle passeggiate da fare La piscina Innanzitutto sono case belle Comunque con tutti i comfort Curate bene E poi c'è una bella montagna Ci sono tante passeggiate da fare I bambini si divertono Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24? Assolutamente sì Hanno messo anche le bici elettriche Riusciamo a fare anche delle pedalate Ottimo Lo consigliereste quindi ad amici, parenti? Sì sì assolutamente Siamo arrivati alla telepromozione della primavera Si ha voglia di rinnovare la casa Ma soprattutto si ha voglia di riposare bene La parola materasso A cosa vi fa pensare? Al dormire Al riposo Materasso uguale salute Materasso uguale stare meglio E la soluzione è solo una La Mondo Flex Noi ci siamo specializzati nel farvi riposare bene Materassai non ci si improvvisa da un giorno all'altro Ci vogliono anni e anni di esperienza Approfittate delle nostre promozioni Al benessere non si rinuncia Venite alla Mondo Flex Troverete le novità a prezzo di lancio E con la carta oro Un ulteriore 10% di sconto Anche sulle promozioni Venite alla Mondo Flex Perché il miglior risparmio è la qualità Ti aspetto Ciao ragazzi Sono Daniele della Ducati Monza Vi aspettiamo in negozio Per mostrarvi tutte le nostre moto nuove Siamo a Monza in Viale Sicilia 102 Nostro sito www.ducatimonza.com Dove potrete vedere tutto il nostro usato disponibile E c'è anche una sezione dedicata Per acquistare il vostro abbigliamento Se non siete vicini alla nostra sede Vi aspettiamo in concessionaria Fanno male gli interventi di implantologia Come faccio ad avere denti più sani? Posso avere denti più sani? Ho una distrazione E devo curare la vostra Ma non ho mai distrazione Primo e care dente Rispondono alle tue domande Con oltre 140 centri Al servizio del tuo sorriso Chiama l'800 583 998 Informarsi è il primo passo per prevenire Allora rieccoci Stavamo parlando di AstraZeneca Adesso continuiamo a parlarne Ma parliamo anche del prossimo vaccino Che arriverà in Italia Se tutto va bene A metà aprile E siamo collegati con la dottoressa Loredana Bergamini Che è direttore medico di Janssen Italia Che è la divisione farmaceutica Dell'americana Johnson & Johnson Che appunto produce il famoso vaccino Monodose Con temperature più umane E quindi anche più facile da somministrare Buonasera dottoressa e benvenuta Buonasera grazie per l'invito Allora prima di parlare di Johnson & Johnson Volevo chiederle un parere Sulla vicenda AstraZeneca Perché durante la pubblicità Lei mi diceva Bisogna stare tranquilli Perché c'è sempre una rete di controlli Serratissima Ecco questo ce lo spieghi Perché penso che sia molto rassicurante Perché ci guarda Sì Credo che sia importante Che tutte le persone sappiano Che sia durante la fase di sviluppo Di un medicinale Di un vaccino Sia nella fase successiva Quando ormai viene utilizzato Nella pratica clinica Ogni medicinale Ogni farmaco Ogni vaccino Viene attentamente valutato Dagli enti regolatori Attraverso un sistema Una rete di farmacovigilanza Per cui qualsiasi segnale viene colto Qualsiasi dubbio Viene esaminato E come in questo caso Come dire È stata assunta Una posizione cautelativa In attesa di approfondire Le informazioni Che sono a disposizione Degli enti regolatori E quindi Capire meglio In pratica La situazione Però ecco Questo è importante Dobbiamo avere fiducia Del fatto Che non si fanno sconti Sulla sicurezza Né durante la fase di sviluppo Né durante la fase di registrazione Né tantomeno Quando un medicinale È già A disposizione Del medico E dei soggetti Dei pazienti Dei cittadini Non ci sono sconti Sulla sicurezza Lei è comunque d'accordo Sulla sospensione In via cautelativa Di AstraZeneca? Ma io Non mi esprimo Su questi aspetti Perché sta Gli enti regolatori Che conoscono In maniera dettagliata La situazione Che hanno una rete Di comunicazione Anche Tra di loro All'inizio Sono stati Alcuni stati Che hanno Assunto questa posizione Cautelativa E il nostro ente regolatorio Europeo Come dire Ha a questo punto Deciso Di approfondire La situazione Lascerei a loro Io mi fido molto Di quello che sarà La loro valutazione E della collaborazione Che si ha Con le aziende Che presentano Tutti i propri dati I dati Che sono a loro disposizione Così come Del sistema Di farmacovigilanza Che viene messo In atto Quando un farmaco È registrato Ed è disponibile Insomma È nell'uso Nella pratica clinica Senta Allora Parliamo del suo Del vostro Vaccino Del Johnson & Johnson Che viene un po' Considerato Quello più semplice Perché ripeto La dose è una sola Non sono due E poi può essere Conservato anche A temperature Più elevate Quindi più facilmente Essere anche tenuto In frigorifero Lei mi conferma Che dovrebbe Arrivato il via libera Dell'Ema Dovrebbe arrivare In Italia Verso metà aprile Quante dosi A che punto siamo Allora L'informazione È che Innanzitutto È una bellissima notizia Perché finalmente Avremo anche Un vaccino in più Un'arma in più Per sconfiggere Questa terribile pandemia Il nostro vaccino Come lei diceva Correttamente È stato studiato Per un uso Nella fase di emergenza Con una sola dose Perché questo Da una parte Facilita lo schema Vaccinale E dall'altra Consente di utilizzare Al meglio Le dosi che abbiamo Per una popolazione Molto più ampia Gli accordi Che sono stati Stretti con La Commissione Europea Sono di Fornire all'Europa 200 milioni di dosi Entro la fine Del 2021 Ed abbiamo appena Comunicato Proprio nei giorni scorsi Dopo l'approvazione Dell'Ema Che inizieremo A mantenere fede Alla nostra promessa E quindi A fornire Il vaccino In Europa A partire Dalla seconda Metà di aprile Ecco Gli accordi Con l'autorità Europea Erano Nel secondo Trimestre Del 2021 Di iniziare A dare il vaccino E quindi Tra aprile E giugno Il fatto che si Cominci già Questa distribuzione Ad aprile Dalla seconda metà È una bellissima notizia Perché Vuol dire Che abbiamo anticipato Ema è stata rapidissima Nel valutare Il vaccino L'approvazione L'approvazione è arrivata Anche prima Di quanto noi Ci aspettassimo E quindi Prima Riusciremo A tenere fede All'impegno Della fornitura Ecco Emanuele Quindi Quando arriverà Anche Johnson & Johnson Chiaramente la campagna vaccinale Potrà avere Un forte Robustimento Assolutamente Adriana Aiuterà tantissimo Oltretutto Un vaccino monodose Speriamo davvero Tanto Perché Questo ci darà I volumi È una spinta E ci darà i volumi Oggi Adriana La nostra macchina Gira 170.000 vaccini al giorno Ne facciamo 30.000 Sì Cioè Ne abbiamo Se noi ne avessimo Gli altri 140.000 Faremmo 170.000 Vaccinati al giorno Quindi Quando arriveranno Le dosi di Johnson & Johnson Che saranno distribuiti Sulla campagna massiva Quindi su tutta la popolazione Arriveranno Andranno su tutta la popolazione Dottoressa Mi scusi Per quanto riguarda L'efficacia E l'età Diamo anche questa Spiegazione A chi ci guarda Allora Per quanto riguarda L'efficacia Direi che Tra i tanti dati Forse quello più significativo È che Il nostro vaccino Garantisce Una copertura Una protezione Pari all'85% Nei confronti Delle forme più gravi Che sono quelle Che ci devono preoccupare Di più Ma soprattutto Non si sono osservate O spedalizzazioni O morti Nelle persone Che sono state trattate Durante la fase Di ricerca clinica Con questo vaccino Quindi C'è un'attività Che ci consentirà Anche di alleggerire Quello che è il carico Lo vediamo in questi giorni Terribile Sugli ospedali Sulle rianimazioni Non ce lo possiamo permettere Quindi il fatto di poter Contrastare Gli episodi più gravi È sicuramente Un dato importante Lei mi chiedeva Poi dell'età Ecco il nostro vaccino È stato studiato Su persone Che hanno accettato Di entrare a far parte Dello studio clinico Che avevano un'età Superiore ai 18 anni Quindi anche le persone Con età superiore ai 60 anni Erano state accettate E anzi Le persone al di sopra Dei 60 anni Rappresentano Il 34% Della popolazione Complessiva Trattata nello studio Clinico registrativo Quindi Una larga rappresentanza E questo ci consente Appunto Di poterlo Somministrare Anche alla popolazione Più anziana In sicurezza Come ha valutato La commissione europea Come ha valutato L'interregolatorio europeo Poi l'altro aspetto Interessante Che è stato studiato Anche su Popolazioni Con più fattori Di rischio Il quasi Il 41% Delle persone arruolate Aveva almeno Uno dei fattori Di rischio Più importanti Ovvero sia Quelle patologie Quelle malattie Che normalmente Si trovano Nella popolazione Quando vai a vaccinare Qualcuno E quindi Il diabete L'ipertensione arteriosa Malattie cardiovascolari Quindi Malattie Che in qualche modo Richiedono Una particolare Attenzione Perché il soggetto Potrebbe avere Una maggiore fragilità Anche in questo caso Non si è osservato Nulla di particolare Quindi Non ci sono Controintigazioni specifiche Quindi non sono stati Trovati effetti Collatorali Senta Per le varianti Un'altra cosa Che leggevo Che secondo me È un elemento Che rassicura La popolazione Siccome ormai Abbiamo a che fare Con la variante inglese Ma purtroppo Ce ne sono altre Si parla Della variante Sudafricana E anche della variante brasiliana Quindi ci sono altre varianti Su queste Io ho letto Che il vostro vaccino Sarebbe efficace Corretto? Sì Mi consente Prima di riprendere Il punto Sulla sicurezza Perché è un punto Soprattutto in questi giorni Estremamente importante Allora Quello che noi abbiamo osservato Durante la fase Dello studio registrativo È una sicurezza D'impiego L'effetto Che è stato osservato Più frequentemente Nel 9% Delle persone ruolate Complessivamente Abbiamo ruolato Circa 44 mila persone Nello studio di fase 3 Lo studio ensemble È stata la febbre La febbre Dolore magari Nella fase Nella sede di iniezione E quindi Degli effetti indesiderati Assolutamente Come dire Accettabili Attesi anche Quando Si somministra un vaccino Questo è quello Che abbiamo osservato Mi scusi Come gli effetti Del Pfizer Dolore al braccio E un po' di febbre Anche il vaccino Pfizer Soprattutto febbre Soprattutto febbre Soprattutto febbre Ok Quelli che si hanno Normalmente con dei vaccini Comunque Non sono effetti Diversi da quelli attesi La febbre è quello Più importante Mentre Ritornando invece Al secondo punto Che lei Sottolineava Quello delle varianti Ecco Noi abbiamo Effettuato Questo studio Di fase 3 Lo studio Insambola Nell'estate scorsa Abbiamo cominciato L'estate scorsa E l'abbiamo chiuso Poi La fine dell'anno E siamo Abbiamo fatto Questo studio Proprio nel momento In cui La pandemia Era più grave E più aggressiva Noi andiamo a fare Gli studi Dove C'è la malattia Noi eravamo ancora In una fase Relativamente tranquilla Prima della seconda Andata Ed era invece Particolarmente Devastante La pandemia Soprattutto Negli Stati Uniti Nel Sud America In Sud Africa Ed è lì che noi abbiamo condotto Questo studio Quindi Senza volerlo Abbiamo avuto anche La possibilità Di testarlo Contro le varianti Con dei risultati Che sono in linea Con quello osservato Dal lente regolatorio È sicuro Ed efficace Ed efficace Questa è la cosa Che conta Poi ci sono altre caratteristiche Il vaccino Non si sceglie Con il cuore Si sceglie Con la testa E con i dati E i dati Per fortuna Sono confortanti E rassicuranti Per tutti Poi ognuno Ha delle peculiarità Ha delle caratteristiche Particolari Anche così Però dottoressa mi scusi Io qua Ricevo delle domande Che per cui dopo La domanda La giro a lei Anche al presidente Monti Qua mi dice Sono Stefano Ho 55 anni Di desio Vorrei sapere Che tipo di vaccino Mi verrà somministrato Quando mi dovrò vaccinare Un altro Ho 52 anni Non ho patologie Quale vaccino Dovrei scegliere Ma li sceglieremo noi No Non saremo noi a scegliere Come funzionerà Quando ne avremo Sul mercato tanti Emanuele No no Non è importante Questo diciamolo Perché se no Ognuno sceglie Il suo vaccino preferito La dottoressa Bergamina Ha detto una cosa Corretta Tutti i vaccini Che sono poi Da parte Dell'EMA Da parte Dell'ente Regolatorio Approvati Sono approvati Quindi Sono corretti Per essere somministrati I nostri cittadini Al di là Adesso di questa questione AstraZeneca Che sta valutando Abbiamo parlato All'inizio della trasmissione Cioè Non bisogna avere paura Soprattutto Non bisogna arrivare Alla scelta No ecco Ma questo possiamo dirlo Non saremo noi A scegliere Sarà il vaccino Che sceglierà noi È giusto Quello che stiamo cercando di fare È questa definizione Esatto Sarà il vaccino Che sceglierà noi C'è questo Non c'è possibilità di scelta Perché è importante Riuscire ad arrivare In base alle dosi Che sono inviate Dalle singole aziende In maniera scaglionata No man mano che arrivano L'importante è che vengono distribuiti Come si sta facendo rapidamente E venga in maniera molto veloce Vaccinata la più ampia fetta della popolazione Perché così saremo tutti più protetti E tutti più sicuri E soprattutto che non vengano sprecate dosi Come ad esempio Ha detto anche il generale Figliuolo Ha detto piuttosto lo diamo al primo che passa Ma non sprechiamo le dosi Io sono anche d'accordo su quello Ecco sì Una volta che sono scongelati I vaccini hanno comunque una durata Nel tempo che è limitata E vanno utilizzati Nel nostro caso Sta a tre mesi A due o otto gradi Quindi un periodo ragionevole Ragionevolmente lungo Potete aspettare un po' di più Non è il Pfizer che dice Adesso vieni Che arrivano questi messaggi Porti suo padre nel giro di due ore Che lo vacciniamo Quello con voi non c'è Domanda da casa Chieda al direttore della Janssen Della sperimentazione pediatrica Ho letto che la stanno facendo al Buzzi di Milano Io non so nulla Non so se è vero Non so se possiamo rispondere Nel nostro studio Come dicevo Non è stata considerata La popolazione pediatrica Che normalmente viene sempre studiata a parte E adesso stiamo iniziando Lo studio clinico L'Italia parteciperà A questa ricerca Con alcuni centri Proprio nella popolazione pediatrica Perché è molto importante Poter avere un'arma Anche sicura Per la popolazione Al di sotto dei 18 anni Anche per i bambini E quindi Ci vogliono degli studi E delle ricerche Disegnate per loro Senta l'ultima cosa Visto che può essere conservato Anche in frigorifero Questo vuol dire Che il vaccino Johnson & Johnson Potrà anche essere somministrato In luoghi più semplici Come non so Le farmacie Allora Allora Dove deve essere somministrato È come dire Una decisione Che fa parte Delle scelte Fate dal nostro ministero Della salute In concertazione Poi con le regioni Sicuramente Dove viene somministrato E da chi viene somministrato È Un aspetto Che ci deve rassicurare Perché comunque Di nuovo Abbiamo delle scelte Che vengono fatte Con estrema attenzione Abbiamo non solo L'ente regolatorio europeo Ma ricordiamoci Noi abbiamo l'AIFA Abbiamo il nostro Ente regolatorio Che come dire Ragiona per Far sì che il vaccino Arrivi rapidamente Ma nella maniera Più sicura possibile A tutti Secondo lei Sarà possibile Produrre Johnson & Johnson Anche in Italia? Ma allora Le do una bella notizia Che in realtà In parte L'Italia Già contribuisce A questa Produzione Perché La produzione del vaccino È una produzione Molto complessa Che vede Diverse fasi E nel nostro caso Una parte Della produzione Del vaccino Che è la parte Di infialatura No? Quindi la parte Terminale Della produzione Del vaccino stesso Viene fatta Anche in Italia In uno stabilimento Che si trova Da Nagni Di Cataland Con cui Johnson & Johnson Ha siglato Un contratto Di collaborazione Internazionale Quindi una parte D'Italia È dentro C'è dentro Il vaccino C'è un po' C'è un po' Di tricolore Nel nostro vaccino Va bene Emanuele Vuoi chiedere qualcosa Dottoressa? No Volevo dare un'informazione Sui fragili Che si diceva prima Poi siamo andati In pubblicità Ne parliamo dopo Non riguarda solo Johnson & Johnson Saluto Berganini Dopo parliamo Dei fragili E mandateci Tanti vaccini Che ci servono Mandateci Tanti vaccini Assolutamente Assolutamente Lo aspettiamo tutti Ecco poi Visto che le è piaciuta La mia definizione Sarà il vaccino A scegliere noi Le è piaciuta questa Bellissima Mi piace moltissimo La mettiamo come slogan Va bene Grazie Grazie mille Davvero Dottoressa Ci diamoci di quello Che ci sceglierà Esatto Grazie mille A presto E buon lavoro La disturberemo ancora Se avrà piacere Grazie a buon lavoro Buona serata Arrivederci Arrivederci Allora adesso Manuele Facciamo così Mandiamo la pubblicità Che siamo in ritardo Poi entrano gli altri ospiti E parliamo appunto Della vaccinazione massiva Perché hanno già cominciato A chiamare anche i fragili Spieghiamo come funziona Perché appunto Qua sia Sia Draghi Sia Figliuolo Hanno detto Andiamo avanti Veloci e spediti A tra poco Benvenuti al gruppo Fassina Un assortimento unico E una disponibilità Incredibile di veicoli Che vi permetterà Di scegliere La vostra nuova vettura Tra decine di modelli Colorazioni E motorizzazioni Tutti esposti In un unico Grande E moderno salone Per la tua nuova auto Fai la scelta giusta Scegli Fassina Benvenuti da Messa Da sempre riferimento Del marchio Renault e Dacia Per Monza e Brianza Da noi troverai auto nuove Usate Aziendali E chilometro zero Inoltre offriamo assistenza E magazzino ricambi Ti aspettiamo anche per un test drive In massima sicurezza Le nostre concessionarie Sono sempre aperte Cerchi un'alternativa Ai soliti gusti? Allora il fruttarolo È il posto giusto per te Farine di legumi Amaranto Miglio Grano saraceno Chinoa E molto altro Prodotti naturalmente Senza glutine Ma anche senza latticini O lieviti Se anche tu Credi fortemente Che la salute inizia dal cibo Vieni a trovarci Siamo a Pianengo Cremona In via Roma 13 Su web Negozio.ilfruttarolo.it O arriviamo noi a casa tua Con comode spedizioni In tutta Italia Sabato orario continuato Dalle 8 alle 18 Siamo arrivati Alla telepromozione Della primavera Si ha voglia Di rinnovare la casa Ma soprattutto Si ha voglia Di riposare bene La parola materasso A cosa vi fa pensare? Al dormire Al riposo Materasso Uguale salute Materasso Uguale Stare meglio E la soluzione È solo una La Mondoflex Noi ci siamo Specializzati Nel farvi riposare bene Materasai Non ci si improvvisa Da un giorno all'altro Ci vogliono Anni e anni Di esperienza Approfittate Delle nostre promozioni Al benessere Non si rinuncia Venite alla Mondoflex Troverete Le novità A prezzo di lancio E con la carta oro Un ulteriore 10% di sconto Anche sulle promozioni Venite alla Mondoflex Perché il miglior risparmio È la qualità Vi aspetto Quando devi arredare il tuo bagno Scegli di evitare sorprese Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore Un'esposizione totalmente rinnovata Dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader Abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff Siamo Dimensione Bagno Da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno Con la garanzia di un servizio completo e certificato Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia Usufruendo dei benefici fiscali Questo è il momento Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenibili Per il bagno migliore che tu possa desiderare Scegli Dimensione Bagno A Pestano con Bornago sulla statale Gratemelzo E sul web dimensionebagno.it Dimensione Bagno L'esperienza del benessere Sì, sì, io... Rieccoci, rieccoci Sono arrivati gli altri ospedali Abbiamo lo studio pieno No, pieno sempre con le norme di sicurezza E qua io ho il metro e misuriamo le distanze Paolo Cova Grazie, buonasera Buonasera Marco Snato, Fratelli d'Italia Buonasera a tutti Metro No, più di un metro Vorrei che facessi la maestra con la bacchetta Sai che io insegnavo prima di fare questo lavoro? E vedi, avresti fatto il vaccino adesso Pensa cosa mi sono persa Va bene Allora, ho dimenticato di dire che di Fratelli d'Italia Deputato di Fratelli d'Italia Unico esponente dell'opposizione in questo pianeta In questo paese In Italia Allora, stavamo parlando della campagna di vaccini Poi magari torniamo a parlare di AstraZeneca Però sia il presidente Draghi Sia il generale Figliuolo Sia i vari presidenti di regione Adesso stanno insistendo sulla campagna vaccinale Che deve andare più spedita Da oggi o da domani Oggi è cominciata anche la campagna Per la categoria cosiddetta dei fragili Cioè chi sono i fragili? Allora, una lista Di una quindicina di categorie Di patologie che è stata definita Al Ministero della Salute Uguale in tutta Italia Oncologici HIV Insomma, le malattie più gravi Idealizzati È stata molto ben dettagliata Ha chiesto agli ospedali Di stilare la lista Nome e cognome Di tutte le persone Che sono prese in cura dagli ospedali Questo è molto importante Per chi ci segue da casa Stiamo parlando dei più fragili Quelli che sono presi in carico all'ospedale Nella stragrande maggioranza dei casi Sono in ospedale Oppure sono anche seguiti a casa Sono in ospedale O sono seguiti a casa Ma dall'ospedale Sì E sarà l'ospedale A chiamarli individualmente Quindi non impazzite adesso Non dovete andare a iscrivervi al portale In farmacia da nessuna parte Andate a stragrande Sul portale Oppure Tant'è che se andate sul portale Adesso non troverete quella categoria Trovate gli over 80 Trovate appunto personale delle scuole Perché questa è una categoria molto specifica Conosciuta dal sistema sanitario E che già da oggi hanno iniziato a chiamare Già oggi hanno iniziato a vaccinare Alcuni dializzati Trapiantati Però aspetta Dializzati pazienti oncologici In cura dell'ospedale Ok ma quelli che magari sono a casa E si curano col medico di base O con degli altri specialisti Da chi vengono chiamati Quelli che sono quindi curati Perché sono una classica categoria di fragilità Sempre fragili Ma meno gravi Ma non in carico all'ospedale E questi Saranno successivamente vaccinati Quindi non è oggi la loro chiamata Allora oggi sono quelli in carico negli ospedali Perfetto Questo è molto importante Ricevete la chiamata Sarete informati Tanti sono già stati informati oggi Soprattutto quelli che sono appunto in ospedale La buona notizia Che non saranno vaccinati solo loro Ma saranno vaccinati anche i caregiver Questa è una battaglia Cioè quelli che si prendono cura di loro Familiari Eccetera Questa è una battaglia di diritto Perché inizialmente non erano inclusi È stato un fronte compatto delle regioni Tra cui la Lombardia Ma devo dire trasversale Che si è vinta Poi anche qua Punto interrogativo Perché il vaccino che si utilizza È la AstraZeneca Ah ecco È la mia seconda domanda Da qua a giovedì Punto interrogativo sui caregiver Però intanto Una questione Diciamo vinta Sul piano del diritto Che poi capiremo da giovedì in avanti Come funzionerà sul tema AstraZeneca Che abbiamo affrontato in inizio trasmissione Ok Allora Paolo Cova La regione Lombardia Sta vaccinando Come siamo messi a 1 milione e 50 Ero rimasta 999 Ero rimasta 999 E qualcosa 1 milione e 56 mila Per l'esattezza Ok Gli anziani Ne abbiamo fatto il 31% Degli over 80% Corretto Circa 200 mila Su 590 mila Richieste Sono ancora troppo lenti Cova O stanno andando meglio? Ma Se devo parlare Per l'esperienza Mia E dei miei familiari Perché noi siamo stati vaccinati Io come sanitario Mia moglie come insegnante E mia figlia come volontaria Ha fatto l'AstraZeneca quindi tua moglie Mia moglie Sta bene Tutto bene No rassicuriamo Perché io voglio Sai quanti mi stanno scrivendo Io devo fare l'AstraZeneca Mia figlia più piccola Ha fatto anche il vaccino Che è stato bloccato Per cui Non ha Non ha avuto Sono messaggi di Va bene Ha avuto una mezza giornata di febbre Ma come capita A chiunque Cioè Una cosa normale Scusami Paolo Io lo sai che le domande Degli spettatori Hanno sempre la precedenza Emanuele Monti Mia mamma 70 anni Esenzione per patologia 0,48 per tumore Ma non è in cura in un ospedale Sono quelli che dicevo io Quando sarà chiamata? Non adesso Non adesso Ma sarà una delle prossime chiamate Quindi Prossimo giro A breve sarà chiamata Ok Ecco C'è un tema legato Alla disponibilità dei vaccini Visto che queste categorie Sono vaccinate Pfizer o Moderna Qualora arrivassero più vaccini Anche i tempi di chiamata Si accorciano No però scusami Quindi chi ha problemi di salute Prende Pfizer e Moderna O AstraZeneca? No 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 Pfizer e Moderna Ah ok va bene Il caregiver prende AstraZeneca Ok tutto chiaro Scusami Paolo Qui dicevi la tua famiglia Cioè noi abbiamo vissuto questa esperienza Io sono andato Tu hai preso il Pfizer Io ho fatto il Pfizer La prima vaccinazione Sono andato a Niguarda Benissimo Ho visto un'organizzazione perfetta Hai visto Snaz Sono ritornato Alla seconda vaccinazione Sono rimasto stupito Perché Pochissima gente Cioè Eravamo veramente in pochi Ma a vaccinarsi A vaccinarsi sì Per cui Sono rimasto stupito Perché rispetto alla volta precedente Ogni turno 9, 9, un quarto 9, un quarto 9, un quarto Almeno altre 30 persone Potevano fare Invece la seconda no La seconda volta no Però insomma Ti sei vaccinato E andrà tutto bene Invece mia figlia E mia moglie Che hanno fatto tutte e due L'AstraZeneca Sono arrivate Sono state là Hanno aspettato E a un certo punto Gli hanno detto Il vaccino è finito Come è finito? Oh 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 Oltretutto non il Pfizer Avevano l'AstraZeneca Hanno dovuto aspettare Stanno lì Alla fine Dopo ore Lo stesso giorno però Sì sì Lo stesso giorno Dopo ore Le hanno vaccinate Per cui Mi stupisce Come In alcune occasioni Potrebbero essere Un pochettino più Più organizzate Più organizzate Devo dire Io la prima volta Mi guarda Vabbè Quindi hai un'esperienza mista Di percentuale Osnato Sì beh Anch'io dalle notizie che ho Insomma All'inizio Qualche piccola discussione C'è stata Mi sembra che sia stata Un po' enfatizzata Sui mass media Rispetto a quello Che poi effettivamente È stato Perché se guardiamo I dati delle varie regioni La Lombardia Comunque è vero Che è più numerosa Come popolazione In altre regioni Comunque è stata Certo Ma se abbiamo 10 milioni Abbiamo fatto un milione È sempre un 10% A quasi il doppio Per esempio del Lazio Che è una delle seconde La seconda e terza regioni Dove tutti esaltano Giustamente Perché comunque anche il Lazio Si è organizzato Perché a livello percentuale Sono più in alto Cioè sono stati più veloci La percentuale è importante Ma anche i numeri assoluti Fanno la differenza Adesso poi Credo che purtroppo C'è stata sicuramente Qualche Secondo me Ebulimia comunicativa Anche più nelle strutture Della giunta regionale Che della giunta stessa Che ha fatto evidenziare Delle piccole disfunzioni Che ci sono state Non in riferimento A quello che ha detto Bertolaso l'altro giorno Perché forse Era un po' esagerata La sua reazione Quando Bertolaso Ha chiesto scusa Per le code a riguarda Sì Che poi ci sono state Ma si sono risolte In pochissimo tempo Inviando qualche C'è stata una sovrapposizione Di agende Insomma Inviando qualche medico In più Si sono risolte In pochissimo tempo Questo dimostra Che se la Lombardia Vuole mettere Vuole risolvere Problemi organizzativi Ci riesce Perché ha mandato La protezione civile Oggi ho letto Per esempio Di questa Una bella collaborazione Tra regione e governo Insomma Questo drive-thru Di Adesso andiamo a vederlo Io pochi giorni fa Ho stato a visitare Il centro tamponi Delle aviazioni Allinate Delle aviazioni militare E proprio lì Avevamo valutato La possibilità Che potesse diventare Un drive-thru Anche quello E spero Adesso andiamo a vedere Ah ecco Brava Ambra Scusate La nostra regista È fantastica Facci vedere il post Che l'ha trovato Eccolo qua È quello Di cui parlava Osnato Quello per cui Appunto Bertolaso Ha detto Mi scuso con tutti Ma devo dire Che io Il fate bene fratelli Portando mia mamma Quella confusione L'ho vista anch'io Però alla fine Il vaccino L'abbiamo fatto Abbiamo aspettato Un po' di più Però Non è neanche Questa Cioè Se devi aspettare Mezz'ora Chi se ne frega L'importante È che lo fai Io l'ha perso così Forse più di mezz'ora Però è stato un incidente Alla fine è stato Va bene Mandiamo la fascia Poi andiamo a vedere Questo drive through Di via Novara E poi vi faccio sentire Anche il generale Figliuolo Voglio sapere cosa ne pensate voi Di lui che dice Non dobbiamo sprecare Neanche una dose Piuttosto la diamo Al primo che passa Tra poco Benvenuti al Gruppo Fassina Un assortimento unico E una disponibilità incredibile Di veicoli Che vi permetterà Di scegliere La vostra nuova vettura Tra decine di modelli Colorazioni e motorizzazioni Tutti esposti In un unico Grande e moderno salone Per la tua nuova auto Fai la scelta giusta Scegli Fassina L'attesa è finita Nuova Land Rover Defender 90 È arrivata Sono Luca Fagnani E vi aspetto qui in JB Cars Proprio nel cuore di Monza Per farvela scoprire Nuove motorizzazioni 6 cilindri Mild Hybrid E con Freedom Plus Può essere tua Con 12.000 euro di anticipo 36 rate da 370 euro E tra tre anni La ricompriamo Al 59% Del valore d'acquisto Scopri tutte le nostre offerte Su jbcars.it La Tecno Stars Formichetti Siamo arrivati alla telepromozione Siamo arrivati alla telepromozione della primavera Si ha voglia di rinnovare la casa Ma soprattutto si ha voglia di riposare bene La parola materasso A cosa vi fa pensare? Al dormire Al riposo Materasso uguale salute Materasso uguale stare meglio E la soluzione è solo una La Mondoflex Noi ci siamo specializzati Nel farvi riposare bene Materasai Non ci si improvvisa da un giorno all'altro Ci vogliono anni e anni di esperienza Approfittate delle nostre promozioni Al benessere non si rinuncia Venite alla Mondoflex Troverete le novità a prezzo di lancio E con la carta oro Un ulteriore 10% di sconto Anche sulle promozioni Venite alla Mondoflex Perché il miglior risparmio È la qualità Ti aspetto Allora diamo qualche informazione in più Allora da oggi sono cominciate Hanno cominciato a chiamare i pazienti fragili Ad esempio gli oncologici In cura negli ospedali A seguire ci saranno i fragili Non in cura negli ospedali E a seguire ancora i cronici Perché sto ricevendo Ad esempio questo messaggio 79 anni Esenzione 048 Infisema Quando posso richiedere Lui non è un fragile È un cronico Cronico Quindi cronico vuol dire dopo Poi su questo ci saranno Finalmente Premier Draghi Ha definito bene Perché prima non era chiaro Col governo scorso E certo Adesso ci sono anche loro nel governo No però Draghi ha fatto una cosa di buon senso Solo Snato lo critica Draghi ormai L'inemida uguali per tutte Quindi anche queste qua Di oggi Perché qualcuno mi ha scritto Lamentandosi Ah la regione Lombardia Non mi è incluso nella lista Allora è una lista No è fatto bene Cinta dal ministero della salute L'istituto superiore di sanità In base a quelli che sono reputati Perché dopo i croni Dopo i fragili Uno Poi ci sono i fragili due Poi dovrebbe esserci Divisione per età No? Dai 79 ai 70 Poi dai 69 ai 60 E poi si scende Infatti Quindi questo dovrebbe essere Questo il criterio stabilito Da Draghi per tutta Italia Andiamo al Drive Thru Di Via Novara Visto che è stato Ma ti piace il Drive Thru? Sta diventando un filo governativo Anche a Osnato No no È un suggerimento Che ne abbiamo fatto Io voglio dire Questa cosa peraltro Vuol dire che è molto innovativa Onestamente Io ho mia mamma Che è 79 anni Abita a Belluno In Veneto Quindi non ha ancora diritto Perché è under 80 No no In Veneto invece lei abita in Veneto L'ha già fatto L'ho accompagnata due settimane fa E c'è Quello che chiamano Un Drive Thru Nel parcheggio dell'ospedale di Belluno C'è un Drive Thru L'hai levato in macchina Quindi lei arriva C'è un gazebo Dove c'è il medico Che fa la nage L'accettazione 50 metri dopo c'è un gazebo Dove direttamente dall'auto Ti fanno il vaccino E poi ti fanno aspettare Nel parcheggio a fianco C'è un medico Che va Meraviglioso Sì Devo dire funziona molto bene Andiamo anche noi A vedere il Drive Thru Nel trenno Le droplet che vagano Arriveremo sino a 2000 vaccinazioni al giorno Ha detto oggi Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini Che ha inaugurato il polo vaccinale Nel Drive Thru Di Via Novara A Milano Gestito dall'esercito Uno dei più grandi d'Italia Altre 1300 vaccinazioni al giorno Vengono effettuate all'ospedale militare di Baggio I Drive Thru Sono 28 in Lombardia E 138 complessivamente nel nostro paese Si tratta dell'evoluzione Dell'attività relativa ai tamponi Che sempre più andranno verso i poli vaccinali Questo è un esempio invece di un'evoluzione Di queste attività Lo abbiamo annunciato Lo stiamo realizzando L'evoluzione L'evoluzione cioè Dei Drive Thru Verso poli vaccinali Come quello che state vedendo qui oggi Ha oltre 2000 vaccini al giorno Al centro ospedaliero di Milano Al Com di Milano Ne stiamo realizzando Circa 1300 al giorno La gente è al limite della sopportazione Ha detto il governatore Attilio Fontana Che ha aggiunto Che l'organizzazione per le vaccinazioni È pronta E adesso aspettiamo solo i vaccini L'organizzazione è pronta Adesso dobbiamo aspettare i vaccini Perché è l'unico mezzo Attraverso quale potremo iniziare Una vaccinazione di massa Quella di cui abbiamo bisogno Credo che la gente sia arrivata Veramente ai limiti Della capacità di sopportare Le continue privazioni di libertà Ai limiti della capacità Di sostenere economicamente Le certe attività Poi parleremo della zona rossa Di che cosa è cambiato L'80% entro l'estate Tu ci credi Osnato? Io me lo auguro Prima ancora di crederci Nel senso che In questo do ragione al Presidente Fontana Siamo tutti stanchi E provati da un anno Comunque di privazioni di libertà E cambiamenti continui Di opportunità e di facoltà Di poter vivere Lavorare, studiare Io ho due figli adolescenti Insomma capisco che In quest'anno Sicuramente hanno vissuto una vita Che non augureremmo a nessuno A quell'età lì E neanche in altre età probabilmente Quindi io me lo auguro Ancora prima di fare Poi una valutazione Di quello che accadrà Se non arrivano questi vaccini Sicuramente è un problema Io oggi anche Seguendo la vostra trasmissione Prima di entrare Ho appreso Che probabilmente Ne arriveranno molti Sono contento Quelli della Johnson & Johnson Che tra l'altro sono monodose Quindi anche più Efficaci Sì perché quando diciamo Che arrivano 20 milioni di Pfizer Vuol dire che sono 10 milioni vaccinati Invece Johnson & Johnson Sono numeri reali Devi dividerli per due Se si arriva all'80% Della popolazione Entro l'estate Vuol dire Peraltro Si escluderanno i più giovani Che sono anche quelli Meno soggetti Secondo Quindi sostanzialmente Si arriva Adesso qualcuno È più esperto di me Un'immunità di gregge Di fatto Insomma immagino Arriviamo vicini Sì sì Con le dosi Che sono state Così Che sono previste Dal piano Noi tra La prima E la seconda Settimana di aprile Abbiamo vaccinato Tutti gli over 80 Quindi entro un mese Ci siamo Considera che oggi Stiamo facendo circa 20-25 mila al giorno Siamo a 220 mila Dobbiamo arrivare A Altre 300 mila 250-600 mila Quindi Matematicamente Noi in un paio di settimane Ci arriveremo Quindi sarebbe Il problema dipende Quanto Pfizer avete Però visto che dovremo Adesso probabilmente Spostare un po' di dosi Pfizer Per il tema di AstraZeneca Perdiamo quella settimana Che ci porterà La prima di aprile Al massimo La seconda di aprile Però perché dici Che dovrete spostare Pfizer Se magari AstraZeneca Tra due giorni Ma allora sai Lì si era allungato Il discorso fino ai 65 anni Sai Di AstraZeneca Può essere che Che si dovrà utilizzare Qualche dose di Pfizer Vediamo Mi sta dicendo In politichese Che è possibile Che AstraZeneca Venga rimesso Ma Vengano messi dai tetti Questo stai dicendo Emanuele Da qua a giovedì Finché Emano Si pronuncia Noi AstraZeneca Non facciamo neanche una dose Certo Quindi Ci può stare Che in questi quattro giorni Qualche Pfizer Venga dirottato Però io ho visto Un'intervista oggi A Palù di AIFA Insomma A lui ieri Aveva detto Che era sicuro No ma anche oggi Lui è Dice Un eccesso di precauzione Prendiamo atto Insomma Mi è sembrato Abbastanza risoluto Nel ritenere Che giovedì La situazione Allora Poi torniamo a parlare Di AstraZeneca Prima Visto che c'è ancora Emanuele Volevo chiedergli Ancora questo Trapiantato di cuore Da 16 anni Sergio Sono in cura In un ambulatorio In cura Nell'ambulatorio Trapianti di niguarde Sono anche diabetico Questo è cronico Sono persone già abituate Il medico Dell'ambulatorio In infermiere Il centro Dell'ambulatorio Niguarda Lo chiamerà Mamma di 81 anni Demenza Ossigeno notturno Bronchite cronica Non l'hanno ancora chiamata Questa fa parte Degli over 80 Ma gli over 80 Signore È il tema Che abbiamo detto prima Noi ne abbiamo vaccinati 220 mila Su 600 mila Che dovremo vaccinare Che vaccineremo Da qua Alla prima settimana Di aprile Massimo la seconda E questi sono legati Alla quantità I vaccini Pfizer A disposizione Se noi oggi Magicamente Domani Avessimo 300 mila Vaccini Pfizer Entro la fine settimana Li abbiamo vaccinati Mi scrivono Secondo me All'80% Arriviamo anche Prima dell'estate Perché tanti Non vorranno fare il vaccino Perché hanno paura E sbagliano Sbagliano Per arrivare all'80% Lo dobbiamo fare Non è che Non ci arriviamo Va bene È una storia matematica Allora No Tanto Rapidamente Figliuolo Figliuolo Che dice Vacciniamo tutti E' ospita Fabio Fazio Che dice una cosa Che ha fatto anche discutere Perché sapete Che parlavamo dei furbetti Non quelli che si inseriscono Non ha giustificato Il furbetti Il furbetto dà fastidio Però Figliuolo dice Se io sono al centro vaccinale Del Niguarda Mi avanzano delle dosi Pfizer Perché le ho scongelate E ho finito gli anziani Le devo dare a qualcun altro E ha ragione Sentiamo Sono 15 secondi di Figliuolo Proprio lunedì Quel discorso sulle dosi Lo voglio approfondire Perché bisogna utilizzare Il buon senso Se ci sono Le classi prioritarie Che possono utilizzarlo bene Se no si va Su classi vicine Se no Chiunque passa Va vaccinato Perché questo Bisogna fare Meno male Chiunque passi Se il vaccino è scongelato Devi usarlo Cosa fai? Cioè prendi il figlio Il badante Il nipote Di chi è lì C'è un caso Tutti sappiamo Che oltre alla lista ufficiale Poi c'è la lista d'emergenza Se non funziona La lista d'emergenza Però a me sembra strano Che non funzioni Anche la lista d'emergenza Che come è capitato In alcuni casi Poi sia La cugina Del medico Il fratello Dell'assessore Insomma Il primo che passa Non necessariamente E uno che ha qualche legame Particolare con chi No beh Però sto pensando agli anziani Quindi È vero che non bisogna buttarli via No però Marco Siccome gli over 80 Vanno lì con figli o nipoti C'hai lì figli e i nipoti Vaccina loro piuttosto Sono d'accordo Questo dico Come è successo in Toscana Se no prendi uno Che passa per la strada Piuttosto chiaramente Secondo me La lista d'emergenza funzionerà Ci sarà la lista d'emergenza Chi è in quella lista lì Lo chiamano Sì sì Io ne conosco E chiamati Alle due Per andare alle tre e mezza Tu citavi il Niguarda Sono passato lì l'altro giorno E mi hanno detto Di anziani chiamati All'ultimo Che si sono presentati Anzi erano le persone più felice del mondo Che le hanno chiamate E le hanno risposte Sono corse lì in qualche modo E le hanno vaccinato Due domande per Emanuele Buonasera Disabile grave Non in carico a nessun servizio Come a chi segnalare il caso Quando sarà chiamato Che categoria è questo Eh Al limite di scriverci Se mi date i contatti Lo faccio sentire Se mi autorizzate Sì lo do Mi autorezzo da sola È un tema di privacy Però bisogna capire Do il contatto a te Bisogna capire Disabile grave Così verifichiamo Poi ne ho un altro 045 Presumo sia una È un codice È un codice Cronico Artrite Psorisiaca Immunodepresso Con farmaco biologico Sono nei fragili Preoccupatissimo Eh lui sarà La prossima chiamata Quindi non è I fragili 1 I fragili 2 Sì I fragili 2 Quando Sarà Dalla Seconda settimana Di aprile in avanti Posso dire Che questa cosa qua Dovrebbero spiegarla meglio Quale? Cioè spiegare bene Chi ha diritto adesso Chi ha diritto dopo Fare una cosa più Beh adesso guardate È scritto Cioè Vi invito ad andare Su sito regione Lombardia Si autorizza il numero Adesso glielo do Il ministero della salute Ha scritto tutte le categorie Quindi lì C'è scritto in modo molto chiaro Tra l'altro Credo che gli disabili gravi Rientrino nei fragili Allora io faccio la foto Bisogna identificare Poi sulla disabilità Sulla disabilità Lo ricordo Perché si è collegato adesso Sì Si è aggiunto anche I caregiver Questo è veramente molto importante Quando poi tornerà a strazeneca Quando tornerà a strazeneca Allora adesso facciamo una pausa Perché sapete che a me Sta molto a cuore Il tema della terapia domiciliare Abbiamo intervistato vari medici Dopo la pubblicità Intervistiamo un altro medico Che fa parte di una cooperativa Che tra le varie cose che fanno Sono anche quelle di andare a casa A curare i pazienti Li sentiamo Poi torniamo a parlare Di strazeneca e di vaccinazione Non so se Emanuele resta o va Se vuoi restare Io Resta Mi piace il politico che dice resto A tra poco La tiesa è finita Nuova Land Rover Defender 90 E' arrivata Sono Luca Fagnani E vi aspetto qui in JB Cars Proprio nel cuore di Monza Per farvela scoprire Nuove motorizzazioni Sei cilindri Mild Hybrid E con Freedom Plus Può essere tua Con 12.000 euro di anticipo 36 rate da 370 euro E tra tre anni La ricompriamo Al 59% del valore d'acquisto Scopri tutte le nostre offerte Su JB Cars Da Motostar le novità Honda 2021 E le offerte sui modelli 2020 A te Simone E sono gli ultimi esemplari disponibili Del Forza 300 2020 Euro 4 Al prezzo incredibile di 5.190 euro Più 100 euro per la versione Grey Limited Edition Più 900 euro per la versione Deluxe con bauletto Finanziabile fino a 48 mesi Senza interessi www.motostar.it La bevanda di Cicoria Il fruttarolo Un tuffo nel passato Il puro sapore di un tempo Ritorna nelle nostre case Si veste moderno in comode capsule Al bar come a casa tua Ottimo per mocha Per infusi Per cappuccini In aggiunta a bevande calde E solubile Da gustare anche come bevanda fredda La bevanda di Cicoria Il fruttarolo L'alternativa naturale Senza caffeina Che cercavi Ti aspettiamo Siamo a Pianengo Cremona In via Roma 13 Sul web Negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia Sabato orario continuato Dalle 8 alle 18 Pogliani Moto Non è solo moto Ma anche tutto un mondo Di abbigliamento e accessori Qui potete trovare Caschi Giubbini Paraschiena Quindi protezioni Guanti Venite qui C'è tutto Pogliani a Sesso San Giovanni Siamo arrivati alla telepromozione Della primavera Si ha voglia di rinnovare la casa Ma soprattutto Si ha voglia di riposare bene La parola materasso A cosa vi fa pensare? Al dormire Al riposo Materasso Uguale salute Materasso Uguale stare meglio E la soluzione È solo una La Mondo Flex Noi ci siamo specializzati Nel farvi riposare bene Materasai Non ci si improvvisa Da un giorno all'altro Ci vogliono Anni e anni Di esperienza Approfittate Delle nostre promozioni Al benessere Non si rinuncia Venite alla Mondo Flex Troverete Le novità A prezzo di lancio E con la carta oro Un ulteriore 10% di sconto Anche sulle promozioni Venite alla Mondo Flex Perché il miglior risparmio È la qualità Vi aspetto Non perdere l'appuntamento Con Metropolis Tutti i giorni I temi di attualità Discussi dai nostri ospiti E poi Nella seconda parte Gli esperti al tuo servizio Il lunedì Preparla le tue domande All'esperto di pensioni Il martedì Tocca all'amministratore Di condominio Il mercoledì Daremo spazio Alla rappresentante Dei consumatori Il giovedì Verranno in studio I nostri amici veterinari E il venerdì Il medico Pronto a rispondere Ai tuoi quesiti Tutti i giorni Con Metropolis Allora Rieccoci Facciamo questa parentesi Su un tema Che a me sta molto a cuore Ovvero le cure domiciliari Per chi ha Per chi Purtroppo il covid Se lo prende Lo ripeto Per la ventesima volta No ventesima Sarà centesima Il covid si combatte Con i vaccini Di cui stiamo parlando Con il gel per le mani La mascherina Con cui dobbiamo girare E con le distanze Io da stasera C'ho il metro E quindi Ci abbiamo anche le distanze Ma purtroppo Chi il covid Se lo prende Che ha la fortuna Di farlo In maniera sintomatica Beato lui Se no C'è la possibilità Di essere curato A casa Se viene preso In tempo E se incontra Nella sua strada Un medico Che lo va a visitare Che se lo prende in cura Noi spesso Intervistiamo medici Che fanno così E questa sera Siamo col dottore Alberto Aronica Che è vicepresidente Della cooperativa Milano Centro Che si occupa Di tante cose Ma che Con l'insorgere Della pandemia Avete deciso Appunto Di fare veramente Medici E quindi Di curare Chi si ammala È giusto È corretto Dottore Noi cerchiamo Di fare i medici A prescindere Dalla pandemia La pandemia Abbiamo cercato Di affrontarla Con gli strumenti Che avevamo Soprattutto Nella prima fase Che erano Praticamente zero Perché nella prima fase Come è noto Noi non avevamo Nessun supporto E noi personalmente Quindi parlo solo per noi Siamo andati a visitare I nostri pazienti a casa Rischiando di prima persona Perché inizialmente Avevamo Praticamente Soltanto Una mascherina Un po' di buon senso Però l'abbiamo sempre fatto Dopodiché ci siamo Industriati Per riuscire a seguire Questi pazienti Ne abbiamo seguiti Moltissimi Attraverso Un sistema Informativo Cioè avevamo Un'app Che abbiamo Trasformato Rapidamente In un sistema Di monitoraggio Costante Della salute Dei pazienti E compresa La videovisita E questi pazienti Poi alla fine Gran parte Sono stati seguiti Al loro domicilio Potendo avere da loro Notizie sullo stato di salute In tempo reale E questa app Noi l'abbiamo donata Alla regione Lombardia Perché personalmente Io l'ho offerta gratuitamente Alla regione Lombardia Per distribuirla a tutti i medici Noi l'abbiamo distribuita A tutti i nostri soci Della cooperativa Che tra Milano E Leagnano Sono circa 240 E alla fine Abbiamo seguito Parlo della prima fase Perché poi Ovviamente Nella seconda fase Adesso Si sono poi creati Degli hub In cui ci si può interloquire Anche con l'ospedale Avere dei servizi Ma nella prima fase Come ben ricorderete Non c'era assolutamente nulla E quindi noi abbiamo Praticamente Cercato delle soluzioni Per non lasciare I pazienti soli E per evitare Che andassero in ospedale Questo sistema Che abbiamo inventato In un fine settimana Cioè trasformando Un'app Che avevamo distribuito Ai nostri soci Per gestire Gli appuntamenti In modo tale Che non ci fossero problemi Il paziente Si possa prenotare Autonomamente Tutto Abbiamo aggiunto Dei pezzi Grazie alla collaborazione Con questa piccola software house Che ci ha dato Molto aiuto Ed è diventato Uno strumento Con cui il paziente Veniva registrato E inviava al medico Secondo la sua situazione Secondo agli strumenti Che aveva al domicilio Dal saturimetro All'apparecchio Della pressione Dati sulla sua salute Praticamente In tempo reale In questa app Abbiamo costruito Un sistema Anche di alert Per cui Se scattavano Molto prima Che questo diventasse Un pericolo Degli allarmi Noi chiamavamo Subito il paziente E laddove avevamo Gli strumenti Per intervenire Che vuol dire Tutte le mascherine Andavamo a seguirli Oppure In una seconda fase Avevamo collaborato Con le USCA I giovani medici Che andavano Avendo la possibilità Di essere protetti E questa app Poteva permettere Lo scambio Di informazioni Sanitarie Che era molto importante Nel tutelare La salute Dei pazienti Aspetti dottore Aspetti aspetti L'interruzzo Aspetti aspetti Così che ci capiamo Prima cosa Questa app È un'app Che chiunque Può scaricare Sul suo telefono Assolutamente sì È un'app Che si scarica Sia su iOS Che su Come si chiama Sull'altro Quello del Samsung Quindi Degli altri tipi Di software Viene scaricata Dentro c'è L'elenco Dei medici Che sono Disponibili Che nel nostro caso Sono tutti i soci Della cooperativa Perché noi abbiamo Offerto E distribuito A tutti i soci Io la interrompo Perché così Facciamo domande Risposte più brevi Come si chiama Quest'app Si chiama Visitami Perfetto Allora ce l'ho Non sapevo Che c'era lei dietro Ma ce l'ho Non ci sono Solo io Ci sono ben 270 medici Tra Milano E Legnano In più adesso Stiamo cercando Di trasformarla Per la prenotazione Dei vaccini Visto che mi risulta Che da oggi Finalmente Forse potremmo Vaccinare anche noi I nostri pazienti Cosa che nei due Presidi Tre presidi Prest Che sono Questi studi Dove Siamo organizzati In un numero In collaborazione Con le varie ASST Quindi noi Con la SST Nord E gli altri colleghi Con Niguarda Avevamo anche dato La nostra disponibilità A avvicinare I nostri pazienti Anziani Abbiamo fatto Tutti i corsi Per imparare A gestire Questi vaccini Con la loro difficoltà Eravamo riusciti Anche a partire Nella vaccinazione Dei nostri pazienti Anziani Poi c'è stato Uno stop Perché non siamo Stati riconosciuti Come centro vaccinale Per cui Noi avevamo fatto Tutta l'organizzazione Per vaccinare Noi solo Nel nostro studio Siamo 6 medici Abbiamo 675 Ultraottantenni Di cui alcuni Dicente passano E lei mi mette Troppa carne Sul fuoco Quindi io divido I pezzi di carne Dalle patate Allora No Tutto chiaro L'app Quindi possiamo dire Anche ai nostri Telespettatori Che la possono scaricare E quindi vedere Se ci Ecco Il problema è Se io in quella app Non ho il mio medico Di base Posso rivolgermi A un altro medico Della cooperativa Anche se non è il mio medico Di medicina generale Allora Noi lo facciamo Per i pazienti Dei medici Se il medico lo accetta C'è tutto un problema Di legislazione Della privacy Nel momento in cui Il paziente Ti chiede di accedere È come se Ti Se la liberatoria E quindi ovvio Che i nostri pazienti Sono i nostri 1500 pazienti storici Che ci chiedono E noi li conosciamo tutti E' chiaro Che se mi chiede Di essere seguito Un paziente Che non è mio Non è corretto Quindi Noi consigliamo Al paziente Di chiedere Al suo medico Di partecipare Anche perché Quest'app È gratuita Quindi Non ci sono Costi da fare Però Mi scusi dottore C'è un problema Quello che le dicevo Prima di collegarci Non è che tutti i medici Di base Adesso diciamocelo Non è che sono tutti Così disponibili Come lei Perché ci sono Quelli che non rispondono Che non vanno A visitare Non rispondono Al telefono Non rispondono Alle mail Ti dicono Prendi la tichipirina Vai in ospedale Quindi se uno C'ha la sfortuna Di avere un medico Così La vostra app Non serve Corretto? Certo cambia il medico C'è la libera scelta Così come io Ho cacciato Dei pazienti Perché non rispettavano Quello che è La mia professionalità E mi chiedevano Di firmare Come diceva qualcuno Di amputargli la gamba Io non gli faccio Amputare la gamba Se ho deciso io E questi pazienti Che non accettano Il fatto che Il mio ruolo È quello di curare La loro salute Per me possono Cambiare medico Lo stesso vale Per i pazienti Non mi scusi Non mi scusi se ho il tono Un po' perentorio Perché ho poco tempo E voglio arrivare al dunque Questo è tutto chiaro Però le faccio la domanda Da un milione di euro Cioè Devi dare se risponde giusto Però sì No Che è questo In cosa consiste Generalmente Non nei dettagli La vostra terapia Perché sa che È stato Il Tribunale Amministrativo Del Lazio Ha dato ragione A un gruppo di medici Che hanno fatto ricorso Contro l'AIF E contro il Ministero della Salute Che diceva Date la tachipirina E tenete in vigile attesa Ecco Voi date dei farmaci Date gli antinfiammatori Tanto per capire Più o meno Noi In tutto il periodo iniziale Ci siamo costantemente Aggiornati Rispetto alla letteratura Che Se voi andate a vedere Ogni giorno Diceva delle cose diverse E i nostri pazienti Sono stati seguiti Secondo le indicazioni Di scienza e coscienza Cioè Io faccio il medico Non faccio l'idraulico Per cui Io i miei pazienti Rispetto al quadro clinico Li ho seguiti Con l'antinfiammatorio Piuttosto che con Altri farmaci Che necessitavano E devo dire Noi abbiamo avuto Quasi 120 130 pazienti Covid Seguiti dal mio gruppo Di medici Bene In tutti questi Noi abbiamo avuto Due decessi E guarda caso Due pazienti Che sono dovuti Andare in ospedale Per altro motivo E si sono ammalati In ospedale Mentre al domicilio Erano tutelati Quindi il problema È che il medico Io lo sostengo da mesi Che bisogna curarli a casa Lo sostengo da mesi Il vero problema È che ci vuole un'organizzazione Che è quello Per cui le dicevo Cioè Noi da 25 anni Ci siamo dati Un'organizzazione Noi lavoriamo in sei Abbiamo 8 mila pazienti Abbiamo tre segretari Abbiamo un'infermiera Che paghiamo noi Con cui noi gestiamo 9 mila pazienti Abbiamo poi Noi siamo stati i primi A costruire questo modello Insieme alla SST pubblica Nella fattispecie Noi stiamo collaborando Con la SST Nord Con gli specialisti Della SST Nord Con cui Specialisti territoriali Abbiamo per esempio Nei pazienti sospetti A cui abbiamo fatto Un tampone molecolare Che avevamo dei dubbi Potevamo fare l'Ecofas Perché una collega Bravissima Della SST Ci faceva la sua consulenza Quindi noi abbiamo gestito Sul territorio Tutti i nostri pazienti Quei pochi Che abbiamo andato in ospedale E perché dovevano andare in ospedale Dottore la devo fermare Mi scusi La devo fermare Perché abbiamo altre cose Stasera Questa cosa di AstraZeneca Chiaramente mi ha stravolto Tutta la scaletta No no Noi restiamo in contatto Perché è molto interessante Quello che fate Quindi se lei è d'accordo Ci sentiamo anche In un'altra delle prossime puntate E ci spiega bene Anche che cosa fate A prescindere dal covid Va bene Va bene E anche venire Come sono venuti Altri giornalisti A vedere proprio Praticamente il modello Sì sì Mi ha dato un'idea Solo un accenno Non è vero che non c'è il modo Di verificare L'attività dei medici Esiste È scritta nella convenzione Il problema è che Le ATS Devono andare a verificare L'attività Secondo quello Che è l'accordo collettivo nazionale Che è un contratto Che noi abbiamo E in cui ci sono Dei capisaldi E quella cosa che diceva Dell'Azio È stata smentita Dopo un mese Proprio dalle associazioni Dei medici Dottore mi scusi Mi scusi La devo interrompere Come al solito Mi perdoni se sembro sgarbata Ma no no Aspetti Prima di andarsene Parere suo personale Secondo lei Come sono strutturati I medici di base Cioè che sono liberi professionisti Che quindi non sono dipendenti Della regione O dello Stato Secondo lei è giusto Come modello? Secondo me Metterli a dipendenza Come tutti chiedono È impossibile Fate due conti E vi renderete conto Che è impossibile Perché fare il medico Medicina generale Vuol dire che noi Mettiamo a disposizione Studi, personale Attrezzature All'interno di un accordo Se voi volete Farli dipendenti Come molti dicono Dovete fornirgli Personale Studi e attrezzature Ed è un costo Che io vi sfido Di fare due conti È impossibile Chiaro È stato chiarissimo Bisogna Semplicemente Organizzare i medici Ed è scritto Nella legge Dal 1994 Negli accordi Collettivi nazionali E quasi nessuna regione Li ha applicati E sono leggi Dello Stato Se vuole Poi ne parleremo Grazie dottore Grazie a presto Buon lavoro Grazie per quello che fa Grazie No però è vero Cioè il mio medico di base C'è il suo studio Alla sua segreta A me ha interessato molto Questa intervista Perché insomma Anch'io ho ovviamente Le perplessità Su come Ce l'abbiamo tutti La medicina di base Come ha reagito Ha contribuito O meno Insomma La vicenda Quindi è interessante Sapere che ci sono Dei modelli Che si devono applicare Certo i controlli Sono sempre il problema In Italia E non solo sulla medicina Il controllo È sempre il problema Pensiamo a quelli Sulle infrastrutture Liberi professionisti Marco È più complicato Come fai a dire Tu dovevi andare E non sei andato Perché non ci avevo La mascherina Perché non avevo La cosa Sì dipendente Cosa cambierebbe Attenzione Però allo stesso modo Allora voglio dire Tante critiche Che i medici di base Hanno fatto Per esempio la regione Dicendo Non ci avete mandato Le mascherine Allora se eri libero professionista Te le compri Te le dovevi comprare Dovevi essere pronto Come se è pronto il dentista Ad avere il trapano Hai ragione Hai ragione Come gli studi Si voi ve le comprate Allora ogni volta Bisogna sempre vedere Tutto il Bravo Marco Non ce l'avevo pensato A questo aspetto È vero È vero Se sono libero professionisti Noi siamo andati Avanti mesi E da aprile a giugno A dire non ci abbiamo Vabbè che in quel periodo Non le aveva nessuno Però guarda Questo modello Delle cooperative Che in Lombardia È il 40% dei medici Quindi non è una roba Però questa funziona Altre che conosco io No Cioè non è che funzionano tutte Il modello delle cooperative In Lombardia Funziona molto bene È una bella cosa Che funziona Adesso con la riforma Sentire un leghista Che parla bene Delle cooperative Cova Mi sembra che funzioni Ma è diventato governativo Non vorrei soggettivizzare Mi sembra che questo Dottor Aronica Sia molto determinato Forse funziona bene Anche per l'atteggiamento Conta anche chi c'è dietro Guarda Sono 6-7 cooperative In Lombardia Molto lontane Dalle coprosse Perché No ma il termine cooperativa Una battuta Una battuta Funzionano tutte Benissimo Tant'è che sono state Inserite È stata una mia proposta Lodo Monti Nel piano vaccinazioni E anche loro Adesso potranno In forma aggregata Vaccinare Loro Però c'è un sindacato Dei medici Che all'inizio Aveva detto No noi non vacciniamo Poi c'è la sua sindacata Ma Va bene E poi è un sistema Che funziona molto Nei grandi agglomerati urbani Se poi andiamo Nelle zone Un po' in montagna O nelle zone Anche lì servirete Guardate Sperate di fermare Mando la pulizia Andiamo avanti a parlarne Andiamo avanti a parlarne E poi Parliamo anche Della zona rossa Ad oggi siamo in zona rossa Vediamo cosa è cambiato A tra poco Fanno male Gli interventi di implantologia Come faccio ad avere Denti più sani Posso avere Denti più bianali E devo curare la costa Dotto di resistenza Primo e care dente Rispondono alle tue domande Con oltre 140 centri Al servizio del tuo sorriso Chiama l'800 583 998 Informarsi al primo passo Per prevenire Siamo arrivati Alla telepromozione Della primavera Si ha voglia Di rinnovare la casa Ma soprattutto Si ha voglia Di riposare bene La parola materasso A cosa vi fa pensare Al dormire Al riposo Materasso Uguale salute Materasso Uguale stare meglio E la soluzione È solo una La Mondo Flex Noi ci siamo specializzati Nel farvi riposare bene Materassai Non ci si improvvisa Da un giorno all'altro Ci vogliono Anni e anni Di esperienza Approfittate Approfittate delle nostre promozioni Al benessere Non si rinuncia Venite alla Mondo Flex Troverete le novità A prezzo di lancio E con la carta oro Un ulteriore 10% di sconto Anche sulle promozioni Venite alla Mondo Flex Perché il miglior risparmio È la qualità Vi aspetto Vamag Tecniche di collaudo Presenta One Stop Questo sistema Di ispezione rapido Di facile utilizzo Può effettuare Un'ispezione completa Del veicolo In meno di due minuti Il sistema raccoglie Informazioni preziose Sull'allineamento Di un veicolo Le prestazioni Dei freni E delle sospensioni Lo stato Della batteria La diagnosi Della centralina Lo stato Dei pneumatici E altro Aprendo nuove opportunità Di guadagno Per la tua officina E migliorando La fidelizzazione Dei tuoi clienti Vamag Realizza anche La più completa Gamma di banchi prova Rulli Presente sul mercato Frutto di ben 35 anni di esperienza Vamag Dal 1981 European Quality Made in Italy Viviamo in un mondo Dove ognuno Vuole far sentire La propria voce C'è chi dice Di non andare Troppo lontano Chi dice Che non si può Avere tutto Ognuno è sicuro Di sapere Cosa sia meglio Ma alla fine C'è una sola voce Che conta La tua Gamma SUV Mercedes-Benz Scopri anche Le versioni Full electric Plug-in hybrid Per la tua Mercedes-Benz Scegli la grande Famiglia Venus Il racconto del Covid tocca Molti aspetti Della nostra vita La malattia La paura Dell'infezione Le mancate Diagnosi E cure Causate Dall'emergenza Sanitaria A Se in Salute Noi lo raccontiamo Ogni settimana Grazie all'aiuto Degli esperti Se in Salute Ogni lunedì sera Alle 23 E ogni domenica Alle 13.30 Solo su Telenova Vi aspettiamo Allora Volevo tornare un attimo Su AstraZeneca Prima c'erano delle domande Per voi Allora Il medico che avete intervistato È un'eccezione A suo tempo I medici milanesi Avevano ignorato L'invito a consociarsi È vero? Eh Sì Abbastanza C'era L'esperienza dei Craig Che era Sostanzialmente questo Che Insomma Non sempre è partita Un po' A macchia leopardo È partita Insomma Proprio di unirsi Anche per trovare La legge nazionale Dice che i medici Devono stare uniti Sotto aggregazioni funzionali Territoriali Si chiama così Legge nazionale In Lombardia Si hanno fatto questi Craig Da qui sono nate Le cooperative Dove ci sono Centri servizi Fanno un sacco di cose Eccetera Poi ci sono Medici indipendenti Che lavorano benissimo Poi ci sono Medici indipendenti Che Stando indipendenti Sono anche quelli Che non rispondono Al telefono Durante il Covid Eh ma tuttora Non rispondono Il medico Ha una responsabilità penale Se cura a casa Il paziente Questo si aggrava O muore Con le leggi Che abbiamo in Italia Rischia di andare in prigione Quindi è per quello Che non va No Non è proprio così Perché Ha maggior ragione Perché stiamo facendo Tutta questa battaglia Su protocollo Cure domiciliari Perché il protocollo Cure domiciliari Identifica Delle linee guida Quella classe di linee guida Che se il medico Utilizza È ovviamente Voglio dire Ha seguito Quelli che sono Ma siccome non c'era Fino ad ora Non c'è Perché L'unico protocollo Che avevamo Era quello che diceva Tachipirini E vigili attesa Adesso non c'è più Sostanzialmente Noi stiamo parlando Di medici L'ha detto Giustamente prima Non stiamo parlando Di idraulici Cioè se un medico Visita una persona Fa una diagnosi Funzionale Clinica Patologica Alla fine Da una terapia Non possiamo continuamente Contestare l'operato Anche di un medico È vero Ci può essere Un medico Incompetente Ma se un medico Fa la sua diagnosi Caspita Nesse Ma una buona cosa Io sono d'accordissimo Con te Ed è il tema Che io pongo Centrale Sulle cure domiciliari Covid Cioè La regione Lombardia Ha delle linee guida Fatte con gli ordini Medici Dall'11 novembre Scorso anno Sì Ma un medico In propria Sua libertà Di coscienza E sua libertà Di scelta Nel definire Una cura Può seguire Le cure domiciliari Covid Come per esempio Alcuni anche medici Che frequentano La tua trasmissione A mio modo di vedere La risposta è Sì Perché il medico È libero Ovviamente Essendo medico Di andare a Consigliare Un certo percorso Sì Scienza e coscienza Scienza e coscienza Ha studiato Ha studiato Le linee guida Mi spiace dirlo Servono per la medicina Difensiva E basta Perché servono Per garantire il medico Ma magari ci sono dei medici Che hanno paura Hanno paura Se poi gli muore Il paciente Hanno paura Che la famiglia Poi gli faccia caso E gli dica Hai amazzato tu In un periodo Di pandemia È così Ho capito Noi la distorsione Ce l'abbiamo in Italia Hanno indagato il medico Che ha fatto il vaccino A Siracusa Sì Sì Ma A quel povera Cosa c'entra Il medico lì Abbiamo affrontato Tutto il tema Della medicina Difensiva È chiaro Che questa distorsione È in Italia Dove le persone Ti denunciano A prescindere Però poi Scusatemi A maggior ragione Con il covid Io voglio dire Che è tutto nuovo È tutta una scoperta Per esempio Queste cure domiciliari Covid Da un punto di vista Empirico Nel numero dei casi Cioè vengono qui A raccontarci Le storie mediche Anche da te Il professor Mangiagalli E tanti altri Sì certo Cioè I casi sono ottimi Di successo Di risultati positivi È chiaro che Bisogna avere Una base empirica Una base scientifica Chi ce l'ha Con il covid Lo conosciamo Da un anno Ma anche all'inizio La mascherina Non serve Serve Qui però c'è un tema Dunque Guardiamo un po' L'altro tema Che mi dicono È se secondo voi Devono vaccinarsi Obbligatoriamente Le case produttrici Dei vaccini Hanno venduto All'Unione Europea I vaccini Scaricandosi Dalle responsabilità Adesso parliamo Che delle Unioni Europee Tra pochissime Tra cinque minuti A loro volta Hanno Il caso Del medico siciliano Che dicevi tu È evidente Hanno scaricato La responsabilità Sui singoli medici Hai sbagliato qualcosa Nell'iniezione Invece Dovevi forse Dare uno scudo penale Per esempio Infatti la proposta Se tu gli dici Tu sei d'accordo E io Sono abbastanza d'accordo Tranne casi Dolosi O di gravissima negligenza Perché se lo Stato Garantisce per il vaccino E poi Sono d'accordo Se lo devi prendere col medico Se lo devi prendere col medico Certo Certo Assolutamente A proposito dell'AstraZeneca Chiudiamo il discorso Perché il Magrini Il direttore generale Di AstraZeneca Questa sera Su Radio Capita L'ha voluto Di AIFA Scusi Cos'ho detto Di AstraZeneca No di AIFA Scusate Che è l'organo di vigilanza Del farmaco in Italia Ha voluto rassicurare Tutte le persone Che hanno A cui è stato somministrato Il vaccino AstraZeneca Spiegando che il vaccino È sicuro E perché è stato sospeso Sentiamolo È stata una sospensione Perché diversi paesi europei Tra cui Germania e Francia Hanno preferito Sospendere in presenza Di alcuni Recentissimi Cari Pochissimi Eventi avversi In 4 o 5 In donne giovani E ciò Ha suggerito Uno stop Di verifica Prima di Ripartire Per quanto tempo? Giorni attendiamo Giorni attendiamo EMA Giorni attendiamo EMA E poi vedremo meglio i numeri Chi ha già fatto questo vaccino Anche chi lo ha fatto oggi Può stare però sicuro Direttore? Può e deve In quanto tecnicamente I dati Che erano Molto rassicuranti Visto che sono stati Vaccinati Oltre 16 milioni Di europei E i dati erano Completivamente Molto positivi Io mi sento di dire Che il vaccino è sicuro Sì Mi sento di dire Che anche avendo rivisto Tutti i dati Perché tutti i dati Andranno rivisti Poi con grande Cautela Dopo le autopsie E non prima Un vaccino Su cui si ripongono Grandi aspettative Anche per i grandi Quantitativi Che purtroppo Non sono giunti Questi ultimi effetti Su persone giovani Hanno testato Un sospetto Che si è voluto Cogliere immediatamente Lui parla di autopsie Mentre prima Parlavamo con la dottoressa Bergamini Che invece diceva Che secondo lei L'iter è controllare Le cartelle cliniche Cioè vedere se C'erano degli elementi Perché ad esempio Il primo militare Di Siracusa Sembra che fosse sano Come un pesce Però vai a sapere Se c'aveva qualcosa Perché il problema È che quando sei giovane E non hai mai avuto problemi Magari hai qualcosa Che non sai di avere Ma purtroppo A volte è così Ricordiamo quel dato Quei calciatori A cui succede qualcosa Improvvisamente E poi viene fuori Che avevano qualcosa Adriana Ricordiamo quel dato Che citavi in apertura Della puntata Sono 17 casi 15 casi Su 16 milioni 17 milioni Giusto per dare Anche le dimensioni Che ci segue la casa No lo dico Perché appunto In questi 17 milioni Scusami 15 casi Di eventi Di trombosi venosa profonda E 22 di embolia polmonare Benissimo Le verifiche Non sono morti La cosa scandalosa Lo diceva oggi Matteo Salvini E non posso che Ridirlo anch'io Che siamo qua A scoprirlo adesso Cioè Voglio dire Le verifiche Che devono essere condotte Da Ema Come sono state fatte Perché se adesso Ema Sospende tutto Dice Dobbiamo rifare Delle verifiche Blocca la vaccinazione In mezzo a Europa Per 4 giorni Che poi magari Diventano 2 settimane Perché Dobbiamo fare altre verifiche Cioè Se Lo diceva prima Giustamente La direttrice Cioè Se uno ha autorizzato Ha autorizzato Domande E poi dopo Ci colleghiamo Con l'Europa Buonasera E' vero che ci sono linee guida Ma i medici di famiglia Si rifiutano di visitare In casa I positivi al covid E purtroppo La realtà è quella Non vanno Io stasera parlavo Con un amico Che ha la nonna Le abbiamo mandato Uno dei nostri medici Di questi Perché il suo medico di base Ha il telefono Non ci va Non ci va Adriana Racconto Abbiamo visto insieme Ieri Una persona che conosco A Milano Che mi chiama Covid 40 di febbre 5 giorni Che è a casa con il covid Chiama il suo medico Di base Che gli dice Guarda signora Non posso far uscire l'usca Perché non ho il computer Con me No questa non me l'avevi detta No non me l'avevi detta Se mi può richiamare Ti prego Ti prego Dopodiché Io tramite Adriana Che ringrazio Abbiamo sentito uno dei medici Che frequenta la trasmissione In tre ore Si è precipitato A casa della signora E Moglie e marito Tutte e due col covid Lei Che stava male Molto male E meno male Che l'ha vista il medico Gli ha cambiato La terapia Eccetera Vedi Ma ha detto Mi richiami domani Non me l'avevi detta Io impazzisco Se sento queste cose Ma adesso io voglio dire Ma di cosa stiamo parlando Ma poi soprattutto Sono quei medici Che poi dicono Ah è colpa Di regione Lombardia Adesso no Perché Poi dobbiamo fare chiarezza Poi noi ci assumiamo Tutte le responsabilità A regione Lombardia Però qua Che tutti si assumessero Le proprie responsabilità E sono d'accordo Anch'io la mia responsabilità Di essere in ritardo Con la pubblicità E con l'onorevole Tovaglieri Che ci sta aspettando A tra pochissimo Benvenuti al gruppo Fassina Un assortimento unico E una disponibilità incredibile Di veicoli Che vi permetterà Di scegliere La vostra nuova vettura Tra decine di modelli Colorazioni E motorizzazioni Tutti esposti In un unico Grande E moderno salone Per la tua nuova auto Fai la scelta giusta Scegli Fassina Chimoto Vendita e assistenza moto A Paderno Dugnano Chimoto Concessionario ufficiale Aprilia Moto Guzzi Fantic Motor E Malaguti Eccellenze italiane Per soddisfare La tua voglia di moto E per la mobilità urbana Da Chimoto Trovi l'intera gamma scooter Piaggio Vespa Niu Novità 100% Elettrica Promozioni Offerte Per moto usato Finanziamenti personalizzati Officine Magazzino Ricambi Sono solo alcuni esempi Dei servizi Che trovi da Chimoto Chimoto Da oltre 30 anni E passione per le due ruote Ti aspetto Con il giornalino La settimana È formato ragazzi Su ogni numero Un mondo di fumetti Giochi Curiosità Giornalismo per ragazzi Rubriche sulla natura Intervisti ad attori E cantanti E i grandi dello sport Non perdere il giornalino Chiedilo in edicola O nella tua parrocchia La serie A e la serie B La Champions L'Europa League Il mercato La nazionale Tutto il calcio A 360 gradi E su Telenova La stagione di Juve Inter e Milan E non solo Le cronache Delle partite Vissute con il cuore Dei tifosi Le voci dei protagonisti Tutte le notizie Onorevole Isabella Tovaglieri della Lega Buonasera 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 a tutti voi Sono sul territorio Perché purtroppo Ancora i voli Per andare a Bruxelles Strasburgo Ormai è chiusa da un anno I voli sono ancora Singhiozzo Nonostante io Si avvicina a Malpensa Che è ancora Un aeroporto Super ben collegato Ok Allora Noi ci stiamo collegando Con lei Perché io leggevo Questa cosa Questa sua protesta Con l'Europa In qualche modo Per cui l'Europa Forse dovrebbe Spiegare in maniera Più uniforme Omogenea Da quello che ha capito Dalla sua nota Quali In che situazione Ci troviamo con i vaccini E a quali rischi Siamo sottoposti Quali sono gli effetti Collaterali Visto che dopo Quello che sta succedendo Su AstraZeneca Lei ha fatto Un'interrogazione Cioè qual è il senso Della sua Della sua nota Allora Il senso della nota È che siamo innanzitutto Consapevoli Che il piano vaccinale È l'unica arma Che ci consentirà Di uscire Da questa pandemia E dobbiamo essere Consapevoli Che chi si vaccina Per primo Per prima Uscirà da questa Catastrofe Che non è solo Sanitaria Ma è anche sociale E anche economica Quindi proprio perché Siamo in una fase Altamente strategica Dove la gente Non essendoci L'obbligo vaccinale Deve vaccinarsi Perché fa Un atto di fede Allora Se vogliamo davvero Che tutti i cittadini Facciano quest'atto D'amore Nei propri confronti E verso gli altri Dobbiamo dare loro Delle informazioni chiare Perché questo È un momento Davvero strategico E quindi non possiamo Permetterci Di non essere Trasparenti Le legittime Richieste Dei cittadini Sono richieste Che riguardano Sia chi Ha già effettuato Il vaccino AstraZeneca Dopo che poi Oggi è arrivata La notizia Che è stato Sequestrato Sia chi dovrà fare Ancora il vaccino Non soltanto Il vaccino AstraZeneca Capire quindi Quali sono effettivamente Questi rischi Se esistono Questi effetti Indesiderati E se sono effettivamente Connessi Alla somministrazione Del vaccino E qualora Dovesse emergere Che malaguratamente Ci fosse una Connessione Vorremmo anche capire Chi è che Dovrebbe risarcire Questi danni Posto che Come abbiamo Già visto E lo sappiamo Tutti Purtroppo Anche sul Contratto vaccinale La trasparenza Dell'Europa È stata veramente Scarsa Posto che Queste condizioni Come i termini Di consegni I termini di pagamento Sono secretati All'interno Dei contratti vaccinali E quindi Proprio da un punto Di vista Di comunicazione È fondamentale Rassicurare I cittadini Che fare il vaccino È sicuro Altrimenti Corriamo il rischio Che veramente Ora inizino A disdire Gli appuntamenti E la gente Non abbia più fiducia Nel vaccino Non si vaccini più Un po' Lo stanno già facendo Comunque in ogni caso Noi stiamo aspettando Il pronunciamento Dell'EMA Ecco Osnato Il tuo partito Ha sempre Chiesto In qualche modo Quando si parla Di sovranismo Che ogni paese Agisca per sé In qualche modo I vaccini Sono invece Una dimostrazione Dell'Europa unita In qualche modo Perché L'Inghilterra È andata per conto suo O l'Europa È andata per conto suo Secondo te Abbiamo sbagliato qualcosa Insomma Sono uguali Le percentuali Vaccinazioni Dell'Inghilterra E quelle degli altri Paesi europei Beh anche Israele Forse l'Europa Non è proprio L'esempio da prendere Da quel punto di vista Poi io Credo che sia stato giusto E l'ha detto anche Giorgia Meloni Che l'Europa Avesse Un atteggiamento Univoco E unitario Nei confronti Europei Insomma Capiamo che poi Tutta questa unità C'è stata fino a un certo punto Ecco Secondo te Tovaglieri Si poteva agire In maniera diversa Per la gestione Sto pensando Sto pensando Anche al fatto Che poi Le forniture Vengono interrotte Vengono sospese A prescindere dai rischi Di AstraZeneca Ma In ogni caso Tutta la macchina Organizzativa Ha avuto forse Qualche falla Assolutamente Diciamo che è stato Centrato Un focus Essenziale Il fatto che Noi siamo andati A trattare A ribasso Su una merce Rarissima Che però È l'unica soluzione Come abbiamo detto Per uscire Da questa pandemia La von der Leyen E oggi lo stesso Timmermans Ha ammesso Che effettivamente Ci sono stati Degli errori Nella strategia vaccinale Quindi È la stessa Europa Che ha fatto Mea culpa In ogni caso Sono andati a sbandierare Che avevano firmato Dei contratti Con le big pharma Spuntando un prezzo Vantaggiosissimo Ricordo che noi Paghiamo 13 euro A dose Il resto del mondo La paga il doppio E non a caso Il resto del mondo Ha i vaccini prima Perché se poi Non si inseriscono Dei paletti chiari Non si ha la forza Di dare Dei binari Entro cui Le big pharma Devono restare È evidente Che poi vince La legge del mercato Chi paga di più Ce l'avrà prima Questo vaccino Però è veramente Frustrante Come un'istituzione Come l'Unione Europea Che ha investito Migliardi di euro Nella ricerca E nello sviluppo Dei vaccini Si trovi In questa posizione Di subordinazione Rispetto alle case Farmaceutiche Quando si va poi A trattare Su una questione Così importante Appunto Come la fornitura Dei vaccini Questo è L'esempio Di come In realtà L'Europa Che voglia Sbandierare Tanto questa Grande solidità Ha dimostrato Una grande debolezza Sappiamo tutti Che firmato Il contratto Per andare Tutti insieme Nella direzione Della fornitura Dei vaccini La Germania Ha firmato Un contratto A latere Dove prevedeva 30 milioni Di vaccini Per sé Un'altra cosa Che io notavo Di oggi È che Boris Johnson L'Inghilterra Li ha comprati Per conto suo E ha già vaccinato Diversi milioni Di persone Oggi Boris Johnson È l'unico Che ha detto Il vaccino AstraZeneca È sicuro È un po' strana Come cosa L'EMA Dice Sospendiamo Per un momento E Boris Johnson Dice no È tutto sicuro Kova Tu come l'hai vissuta Questa cosa E poi secondo te L'Europa Poteva gestirla Diversamente Secondo me Dire alle persone Che c'è rischio zero Ad usare Qualsiasi farmaco Non si può Non possiamo dire Alle persone Esiste il rischio zero C'è anche la tachipirina Tu dici Ha una percentuale Di rischio C'è un famosissimo farmaco Che ha Un principio Che è usato Anche con i generici Se uno va a leggere Il bugiardino C'è scritto Epatotossico Provoca morte E sono morte Più persone Che col vaccino Eppure Dopo mi dici Qual è questo farmaco Milioni E milioni Di dosi Le persone Che adesso Non fanno il vaccino Useranno Quell'altro farmaco Per cui Io Quello che mi sento Di dire È che Rischio zero Non esiste Avere 17 milioni Di dosi 30 casi Di persone È veramente Ridicolo Poi Il terzo Dato che io voglio Mettere qui Oggi sono morte 300 persone Di covid Ieri 300 Di covid Domani Domani Ne moriranno Altri 300 Cioè Secondo me Il conto è quello Uno si deve mettere Di fronte a questa situazione E allora scusami Davanti a questa Tua formazione Aspetta Aspetta Fai parlare Prima Isabella Vai Scusami Noi qua Ci diamo del tu Perdonami Assolutamente Chiedo scusa Anzi grazie Emanuele Che mi hai ceduto La parola Sarò brevissima Davvero Perché poi lascio Spazio A te Il concetto È che noi Non stiamo a questionare Se il vaccino È sicuro o no Perché non compete Alla politica Compete i tecnici Io da un punto di vista Politico Ritengo però Ricevere delle informazioni Così contrastanti E contraddittorie Fa una comunicazione Pessima A favore Della campagna vaccinale Perché abbiamo L'EMA che dice Che è sicurissima L'AIFA che ancora Non si è pronunciata E poi abbiamo Gran parte Degli stati membri Che guarda caso Hanno revocato Dalla circolazione Alla somministrazione Di questo vaccino È la non trasparenza Rispetto alle informazioni Che io sto criticando D'altra parte Quando ci vacciniamo Questo ce lo fa notare Un telespettatore Ci danno un foglio Con scritto Non le possibili Reazioni avverse Non so se però C'è scritto morte Non credo Secondo me L'azione che è stata fatta È un eccesso Di precauzione Perché in questo caso Cioè sospendere Per questi tre giorni Sospendere Perché è un eccesso L'ha detto anche Magrini prima L'ha detto il presidente Dell'AIFA Non è che è una comunicazione Sbagliata Alla fine Diciamolo terra a terra Le persone Continuano a A parlare male A parlare male I media Anche la campagna Che è stata fatta Sui media Alla fine Uno dice Lo sospendo Piuttosto che rischiare Di compromettere Una campagna vaccinale Sospendo L'uso Del faso Sì ma non è un sospendere Per aspettare tre giorni Sospendere per controllare Le cartelle cliniche Sì Controlli Dei stati membri È politica È una scelta politica Non è tecnica È politica Sono d'accordo Non sono andato a verificare Una cosa del genere È successa nel 2014 Con un vaccino Per anti-influenzale Si era ricondotto I problemi Perché c'erano state Anche lì Delle morti strane Perché c'erano state Delle morti Alla fine Il vaccino È stato sospeso Sono andati a fare le verifiche Non c'era correlazione Fra gli eventi negativi E il vaccino La campagna vaccinale E l'hanno rimessa in circolazione Quanto tempo è rimasto sospeso È controllato? Ah questo non lo so Non è controllato Però il problema è che Nessuno si è più vaccinato Allora Delle volte L'eccesso di Sì però sai Dell'influenza Non muoiono le persone giovani Di Covid Muoiono anche i giovani Quindi a questo punto Guarda Dire che di influenza Non muoiono le persone giovani Userei precauzione Io userei precauzione Perché non lo sappiamo No no Ho capito Però diciamo che Non si è mai creata Una pandemia Sembra più una minaccia No Io non lo direi No però Dobbiamo anche dire Che l'onorevole Tovaglieri Dice L'EMA a questo punto Perde di credibilità Però se mi permettete Anche l'AIFA Che ieri dice Con Paluc Il presidente dell'AIFA Che dice State tranquilli L'AstraZeneca è sicurissimo E oggi pomeriggio Neanche 24 ore dopo Lo sospende In via precauzionale Ma lo sospende Capite che Qualunque cittadino Dice Ma questi cosa fanno No Giusto Giusto Onorevole Tovaglieri E poi è l'informazione Esatto È l'informazione a singhiozzo Oggi è stato battuto Un comunicato stampa Dove effettivamente Veniva Sospesa Precauzionalmente La somministrazione Di AstraZeneca In tutta Italia Però Non era arrivata Nessuna circolare Nessuna informazione Formale Ai vari hub Del territorio Dove ancora Si somministravano I vaccini Quindi è un po' Questo atteggiamento Così poco Trasparente Che è quello Che va a minare Più di tutti La fiducia Da parte Dei cittadini Rispetto Alla Vaccinazione Perché c'era Già una diffidenza Di fondo Ed è quello Che noi dobbiamo Cercare di Cancellare Eravamo riusciti A superarla Anche introducendo Il ruolo Del medico Di famiglia Che secondo me È stato molto importante Proprio dal punto Di vista psicologico Perché c'è un rapporto Fiduciario Con i cittadini Che se si vaccinano Dal medico Che li ha sempre avuti In cura Hanno Come dire Più fiducia Ora arriva Quest'altro stop Cerchiamo di non perdere Come dire Il patrimonio Di fiducia Che siamo riusciti A costruire Con tanta fatica Perché sennò Veramente Non ne usciamo più Va bene Sì sì Questo Anche perché Dicevamo prima I negazionisti Ai Novax Sono dietro la porta E quindi bisogna Anche stare attenti Perché questi sono Tutti elementi Non dobbiamo prestare Il fianco Eh sì Che per cui Il Novax Dice visto Ve l'avevo detto Io che non bisognava Vaccinarsi Quindi bisogna Sempre molto Tenere la barra dritta Sul fatto che il vaccino Va fatto Ok Grazie onorevole Tuvaglieri Buon lavoro Ci sentiamo presto Grazie a voi Un saluto a tutti Buona serata Ciao Ciao Mandiamo la fascia Poi parliamo del fatto Che da oggi Siamo Dieci regioni Quante siamo in zona rossa Dieci Più diversi comuni Più diversi comuni Vediamo cos'è cambiato Esattamente da oggi A tra poco Fanno male gli interventi Di implantologia Come faccio ad avere denti più sani Posso avere denti più bianali Ho una distanza E devo curare la vostra Ma mai Primo e care denta rispondono alle tue domande Con oltre 140 centri Al servizio del tuo sorriso Chiama l'800 583 998 Informarsi è il primo passo per prevenire Ducati Milano Gli specialisti delle due ruote Da oltre 20 anni Siamo concessionari esclusivi Per la città di Milano e provincia Da noi troverai Un salone di moto nuove Con tutta la gamma in esposizione Un vasto salone di moto usate Un reparto abbigliamento E di accessori Ed un'officina tecnica specializzata E poi tanta tanta passione Ti aspettiamo Siamo arrivati alla telepromozione Della primavera Si ha voglia di rinnovare la casa Ma soprattutto Si ha voglia di riposare bene La parola materasso A cosa vi fa pensare? Al dormire Al riposo Materasso Uguale salute Materasso Uguale stare meglio E la soluzione È solo una La Mondoflex Noi ci siamo specializzati Nel farvi riposare bene Materasai Non ci si improvvisa Da un giorno all'altro Ci vogliono Anni e anni Di esperienza Approfittate Delle nostre promozioni Al benessere Non si rinuncia Venite alla Mondoflex Troverete Le novità A prezzo di lancio E con la carta oro Un ulteriore 10% di sconto Anche sulle promozioni Venite alla Mondoflex Perché il miglior risparmio È la qualità Ti aspetto Ben trovati cari amici Ci vediamo dal lunedì Al venerdì Alle 13.30 Con Metropolis E sì caro Alberto Un appuntamento quotidiano Più lungo Dedicato a voi Che ci seguite Sì Michele Con noi ci saranno Politici Medici Veterinari Esperti di condominio E di pensioni E potrete intervenire in diretta Telefonandoci O mandando messaggi O Whatsapp E i nostri ospiti In studio Vi risponderanno E dunque dal lunedì Al venerdì Tutti i giorni Con Metropolis Vi aspettiamo Allora da oggi siamo in zona rossa Per chi non avesse ancora capito Che cosa cambia Lo vediamo in questo breve servizio Di Alberto Carreras Ci risiamo È il sedicesimo cambio di colore Per la Lombardia Che da oggi è tornata zona rossa Ci resteremo sicuramente Fino al 28 marzo Ma poi ci sarà un nuovo blocco Per il periodo pasquale Le terapie intensive Sono occupate Oltre il 50% Quando la soglia di allerta È fissata al 30% Un dato che la dice lunga Sulla situazione attuale Di emergenza Covid Superati anche abbondantemente I 250 contagi alla settimana Ogni 100.000 abitanti Siamo a quota 327 Da oggi è necessaria L'autocertificazione Per uscire di casa Motivi di lavoro Di salute O per fare la spesa Didattica a distanza Scuole chiuse E chiusi anche gli asili Resta il coprifuoco Dalle 22 alle 5 Si possono raggiungere Le seconde case Anche fuori dalla regione Solo con attestazione Di proprietà O affitto Da lungo tempo Chiusi bar e ristoranti Consentito l'asporto Fino alle 18 nei bar Fino alle 22 nei ristoranti Negozi chiusi Tranne gli alimentari E i generi di prima necessità Chiusi anche i parrucchieri E i centri estetici Mercati aperti Solo per i prodotti alimentari Va detto che tuttavia Sono 29 le attività Che possono continuare A restare aperte Confcommercio Milano Ha stimato in 290 milioni Di euro La perdita Di negozi Bar e ristoranti In una settimana Di zona rossa Si dovranno poi Aggiungere altri 120 milioni Per la prevista Chiusura Di Pasqua Per Marco Barbieri Segretario generale Della Confcommercio Del capoluogo Lombardo La caduta Dei ricavi Segna mediamente Un meno 75% Meno 80% Per la ristorazione Mentre i negozi E il commercio ambulante Toccano il meno 71% Io devo dire Che oggi Siamo in zona rossa Sostanzialmente Le scuole Avano chiusa già prima Sono stati chiusi i nidi E i negozi Di abbigliamento Di scarpe Le gioiellerie Però io oggi Non è che ho visto Questa Questo deserto Osnato Non so Sì sì Devo dire In città Non sembrava Ci fosse proprio Un Questo senso Non è come Un lockdown di marzo Bravo Stavo dicendo Quello Non è paragonabile A quello Io peraltro Non sono un fautore Di queste chiusure Io credo che ormai Essendo chiaro Lo scenario Probabilmente Tu cosa avresti fatto? È meglio Prescrivere Appunto Delle normative Chiare Certe Lampanti E farle rispettare Io non credo che A oggi Aprire il negozio Di scarpe E far entrare Due persone Laddove Ci possano Con tutti i controlli E altre cose Pregiudichi E allora Cosa avrebbe dovuto Fare il governo? Fare più controlli? Sì Probabilmente Fare più controlli Perché è inutile Ma non solo il governo Anche i sindaci stessi Inutile che ci lamentiamo Degli assembramenti Ad Arsenal Oggi c'erano di nuovo Lo sappiamo Sono lì Quindi magari uno Ci mette qualche controllo In più E senza criminalizzare Nessuno Però magari fa rispettare Queste prescrizioni Insomma Io non sono neanche Un fautore Della chiusura Della scuola Poi noto Che però Chiudiamo le scuole Ma se oggi Uno andava Alle fermate Degli autos Laddove ci sono Magari vicino I mercati rionali Che c'erano ancora E altre cose E forse si accorge Che i mezzi pubblici Sono ancora Troppo pieni C'è tutta la polemica Anche su Milano Sul fatto che Non è stata Sospesa Area C Nonostante la zona rossa E questa è un'altra Questione Perché siamo diventati Tutti ambientalisti La gestione di Milano Durante la pandemia È stata disastrosa Perché poi Qua si è sparato Contro regione Lombardia Come veramente Non ci fossero domani Ma se dovessimo Parlare di Milano Soprattutto in questa Seconda parte Della pandemia Come si va a svuotare I mezzi pubblici Con le scuole chiuse I negozi chiusi Ma non c'è un controllo Adriano Fammi sentire Cova Che siete in due contro uno Ma è impossibile controllare Comunque Un dato di fatto è Che con le chiusure I casi scendono Con le chiusure reali Abbiamo visto 29 categorie Di esercizi commerciali Sono aperti Io non è che Ripeto Scarpe e vestiti Ho capito La zona rossa però Causa una diminuzione Non ce n'è Era andata così Anche queste aperture Anche queste aperture Chiusure Diceva Prima nel servizio Più volte È un dato di fatto Per cui Possiamo stare a contestarla Però è una diminuzione I controlli Come fai a farli? Controlli Chiunque Beh sui mezzi pubblici Diventa Veramente Però abdicare Abdicare Già all'inizio Ci sono la polizia locale Ci sono i carabinieri Ci sono la polizia Ci sono la finanza C'è la possibilità Per esempio Ci sono tutto un comparto Che noi abbiamo incontrato In questi mesi Di quelli della sicurezza privata Per esempio Quelli che fanno i controlli Alle discoteche Nei centri commerciali Che adesso non lavorano Che adesso non lavorano E che invece di pagargli La cazza integrazione Quando gliela pagano Magari li prendi Li fai lavorare E li fai fare questo tipo di controllo Nelle piazze Nei negozi Nelle cose È inutile fare finta Che Nei supermercati Chiudendo tre settimane Due settimane Dove non si può entrare I due della stessa famiglia Poi rinuniscono i contagi Ma poi riaprono Ricominciano subito Allora o ci tieni chiuso Fin quando finisce il covid Ma non credo che sia possibile O si convive col covid Come ci è stato spiegato Però ho nato Anche gli altri paesi Stanno facendo le chiusure La Merkel oggi diceva Voglio prolungare il lockdown Cioè non è una scelta Solo italiana Ma infatti sulla chiusura Non è che sia meglio di noi Però la Germania No però voglio dire È una scelta Però la mortalità Che abbiamo noi è elevata Ma è per altri motivi Sono motivi più medici Che è elevata Però parliamo chiaramente Io su questo Io l'unica roba Che avrei lasciato aperto È la scuola Perché i ragazzi Se stanno in giro È peggio Ma anche tu dici I controlli Noi abbiamo fatto Un emendamento Che per fortuna È passato Nella legge di bilancio Che destina 90 milioni di euro Supplettivi Al trasporto privato Nel senso Di usare Il trasporto privato Per il trasporto pubblico Noi adesso abbiamo Tutte le compagnie Di trasporto privato Quei pullman Che fanno le gite Che non stanno lavorando Per esempio Quello era tutto Un comparto Che andava Assoldato E messo a disposizione Delle scuole In modo che non facevi A Milano Queste settimane È stato usato Pochissimo È stato usato Ma io ho mio figlio Che va a scuola Mio figlio Deve prendere la 90-91 Come gli altri Io li vedo Tutte le mattine Però hanno scaglionato Gli orari Hanno scaglionato Gli orari Troppo tardi Ma quando tu hai Un ragazzino Che va a scuola E quando esce da scuola Prende la 90-91 Vuol dire Che non è stato organizzato Quella scuola Va con quell'autobus E quindi non va Sulla 90-91 Vanno negozianti Commercianti Pensionati Ho nato su questo Ho perfettamente ragione Dissento dal punto di vista Della chiusura Perché i dati Ci portavano a dover chiudere Poi ci fossero stati vaccini Eccetera Però Dissento su questo Se ho nato Ma dopodiché La gestione milanese È stata tragica Allora Qua mi segnalano Una cosa che segnalo Anch'io Fate qualcosa Nei supermercati Entrano Non si può entrare In due della stessa famiglia Non si può Sapete cosa fanno Entrano con due carrelli Così fanno finta Di essere di due famiglie diverse Siccome li ho visti Con i miei occhi Me li stanno segnalando Vi prego Mettete la guardia giurata Fuori dal supermercato Non fate entrare Fidate di vostro marito Ma che bisogno c'è Di andare in due No poi c'è da quelli Con il marito La moglie I figli Ma perché Ma perché Mi ha detto Che questo sabato Che di te non si fida In un negozio No no In un supermercato Questo sabato Controllavano Meno male Meno male Controllavano Lista della spesa Su Whatsapp Lista della spesa O marito o moglie Una volta va il marito L'altra volta va la moglie Mamma mia Non succede niente Va bene Grazie per essere stati con noi Emanuele Monti Marco Snato Paolo Cosa Grazie in regia Ambra Fietta Salvatore Aiello Noi ci vediamo venerdì prossimo Per ora Buonanotte Arrivederci Ciao